turgenev clara milic dopo la morte nella primavera del 1878 abitava a mosca in una casetta di legno sulla shabolovka un giovane sui 25 anni di nome yakov ratov viveva insieme a sua zia una vecchia zitella di 50 anni suonati platoni vaivanovna sorella di suo padre era lei che governava la casa e teneva i conti cosa di cui ratov non sarebbe stato capace egli non aveva altri parenti alcuni anni prima suo padre un signorotto senza fortuna del governatorato di t si era trasferito a mosca con il figlio e con platoni daivanovna che lui chiamava solitamente platoscia come d'altronde faceva anche il nipote il vecchio ratov aveva abbandonato la campagna dove aveva vissuto fino ad allora e si era stabilito nella capitale per mandare il suo figlio all'università egli stesso lo aveva preparato all'esame di ammissione aveva comprato per pochi soldi una casetta in una delle strade più periferiche e si era sistemato con tutti i suoi libri e i suoi preparati e di libri e di preparati ne aveva molti dato che era un uomo non privo di cultura un matto molto originale secondo le parole dei vicini aveva la fama perfino di essere un negromante e aveva anche il soprannome di osservatore di insetti si occupava di chimica mineralogia entomologia botanica e medicina curava i pazienti con erbe e con polveri metalliche di sue invenzioni secondo il metodo di Paracelso proprio con queste polveri aveva portato alla tomba la moglie giovane e graziosa ma troppo delicata che pur aveva amato appassionatamente e dalla quale aveva avuto un unico figlio con le stesse polveri aveva seriamente rovinato anche la salute del figlio che invece egli voleva rinvigorire avendo trovato nel suo organismo un'anemia e una certa predisposizione alla tisi ereditata dalla madre l'appellativo di negromante lo aveva ricevuto fra l'altro il fatto che egli si considerava il pronipote naturalmente non in linea diretta del famoso brius in onore del quale aveva dato al figlio il nome di jacov come si suol dire era un'ottima persona ma con un temperamento malinconico meticoloso portato verso tutto ciò che era misterioso o mistico diceva spesso con una voce appena udibile era la sua esclamazione solita e proprio con questa esclamazione sulle labbra morì circa due anni dopo il suo trasferimento a mosca suo figlio jacov non assomigliava fisicamente al padre che era brutto, sgraziato e goffo ricordava piuttosto la madre aveva gli stessi lineamenti fini e graziosi gli stessi morbidi capelli color cenere lo stesso piccolo naso aquilino le stesse labbra pienote come quelle di un bambino e gli stessi grandi langui di occhi color grigio verde ombreggiati da folte ciglia come carattere invece assomigliava al padre e il viso pur non assomigliando a quello paterno era segnato dalla stessa espressione aveva anche le mani nodose e il petto incavato come il vecchio aratof che tra l'altro non si sarebbe dovuto chiamare vecchio visto che morì prima di aver raggiunto la cinquantina viveva ancora quando suo figlio fu ammesso all'università alla facoltà di fisica e matematica ma Iacov non finì i corsi non per pigrizia ma perché secondo la sua opinione all'università non si impara più di quanto si possa apprendere a casa quanto alla laurea non ci teneva dato che non aveva intenzione di entrare in un impiego pubblico fuggiva ai suoi compagni non frequentava nessuno e in particolare evitava le donne e viveva appartato immerso nei libri evitava le donne anche se aveva un cuore molto tenero ed era sensibile alla bellezza aveva perfino acquistato un lussuoso album inglese oh vergogna si entusiasmava per le immagini delle varie deliziose gulnare o medore che lo adornavano ma il suo innato pudore frenava i suoi slanci in casa occupava lo studio che era stato di suo padre che gli serviva anche da camera da letto e il letto era lo stesso sul quale era aspirato suo padre il grande sostegno della sua esistenza compagna e amica fedele era la zia quella platoscia con la quale scambiava non più di dieci parole al giorno ma senza la quale non avrebbe potuto fare un passo era una creatura dal viso e dai denti lunghi dagli occhi pallidi su un viso pallido con un'immutata espressione a volte di vaga tristezza a volte di inquieta paura eternamente vestita con un abito grigio che odorava di canfora girava per la casa come un'ombra a passi silenziosi sospirava mormorava preghiere una in particolare la sua preferita che consisteva di due sole parole signore aiutaci e dirigeva la casa con molta efficacia risparmiando ogni copeco e pensando sempre lei alle spese di casa adorava il nipote era sempre preoccupata per la sua salute aveva paura di ogni cosa non per sé ma per lui e molto spesso al primo sospetto che la sfiorava andava a vederlo e metteva sulla scrivania una tazza di tisana oppure gli passava sulla schiena le mani morbide come l'ovatta a Jakov queste premure non dispiacevano ma non beveva la tisana che accoglieva semplicemente con un cenno del capo d'altronde non poteva vantarsi di avere una buona salute era molto sensibile nervoso e apprensivo soffriva di palpitazioni al cuore e a volte anche di crisi di asma come suo padre era convinto che in natura nell'anima umana ci fossero dei misteri che si possono a volte intuire ma mai comprendere credeva nell'esistenza di forze e di influssi a volte benigni ma la maggior parte delle volte ostili e credeva anche nel valore e nell'importanza della scienza negli ultimi tempi si era appassionato alla fotografia l'odore dei prodotti chimici usati preoccupava molto la vecchia zia non per sé ma per gli ascia per il suo petto ma lui nonostante la dolcezza del carattere era tenace e continuava con insistenza nella sua occupazione preferita la tocia si sottometteva e si limitava a sospirare e a mormorare più spesso del solito signore aiutaci guardando le dita del nipote macchiate di tintura di iodio Iacov come abbiamo già detto evitava le compagnie aveva comunque un amico con il quale era abbastanza legato e che vedeva spesso anche se questi finita l'università aveva trovato un impiego che non era molto impegnativo secondo le sue parole si era trovato un posticino nella costruzione del tempio del salvatore senza intendersi naturalmente di architettura fatto strano questo unico amico di Aratov di nome Kupfer un tedesco russificato tanto che non capiva neanche una parola di tedesco e usava la parola tedesco come un insulto quest'amico non aveva apparentemente niente in comune con lui era un giovane dai riccioli neri e le guance colorite allegro loquace e grande amante della compagnia femminile che Aratov tanto fuggiva è vero che Kupfer spesso faceva colazione e pranzava da lui e non essendo ricco gli chiedeva in prestito delle piccole somme ma non fu questo a spingere il disinvolto tedesco a frequentare la modesta casa sulla Shabolovka la purezza d'animo e l'idealismo di Jakov lo avevano conquistato forse per contrasto con le cose che vedeva o incontrava ogni giorno o forse perché in questo suo trasporto verso il giovane idealista si rivelava il suo sangue pur sempre tedesco a Jakov piaceva la buonaria sincerità di Kupfer inoltre i racconti che costui faceva sul teatro, sui concerti, sui balli di cui era assiduo frequentatore in genere su tutto quel mondo che a Jakov rimaneva estraneo interessavano e turbavano segretamente il giovane remita senza però far nascere in lui il desiderio di sperimentare di persona anche Platoscia dimostrava una certa benevolenza verso Kupfer a volte lo trovava troppo disinvolto ma istintivamente sentiva e capiva che gli era sinceramente legato al suo caro Yasha e non solo sopportava il rumoroso ospite ma gli mostrava perfino molta benevolenza 2. Nel periodo in cui si svolge il nostro racconto abitava a Mosca una vedova una principessa giorgiana dalla personalità indefinibile e quasi sospetta aveva allora una quarantina d'anni in gioventù probabilmente era stata una di quelle bellezze orientali che sfioriscono precocemente ora si imbellettava, si dava il rossetto si tingeva i capelli di un colore biondo su di lei si erano diverse voci non del tutto lusinghiere e non del tutto chiare nessuno conosceva suo marito e lei non restava mai a lungo nella stessa città non aveva né figli né un patrimonio comunque teneva la casa aperta facendo dei debiti o in altro modo aveva il suo salotto come si dice e riceveva una società piuttosto mista formata in prevalenza da giovani tutto in casa sua a cominciare dal suo modo di vestire dai mobili dalla tavola fino alla carrozza e alla servitù aveva un'impronta indefinibile discadente artificiale provvisorio ma né la principessa e nei suoi ospiti evidentemente pretendevano qualcosa di meglio la principessa passava per una conoscitrice di musica e letteratura e protettrice di artisti e pittori e in effetti si interessava di simili questioni fino all'entusiasmo un entusiasmo non del tutto artificioso aveva indubbiamente una sensibilità estetica inoltre era molto disponibile e gentile senza alterigia e senza affettazione e in fondo fatto insospettabile per molti era molto buona compassionevole e indulgente qualità rare e tanto più apprezzabili in questo genere di persone donna fatua diceva di lei un sapientone ma andrà certamente in paradiso poiché perdona tutto e tutto le sarà perdonato di lei dicevano anche che ogni volta che scompariva da una città lasciava dietro di sé tanti creditori quanti beneficiati dalla sua generosità un cuore tenero può piegarsi da qualsiasi parte Kupfer come era prevedibile un bel giorno andò nella sua casa e diventò uno dei suoi intimi o come dicono le mali lingue troppo intimo parlava sempre di lei non soltanto in modo amichevole ma anche con rispetto diceva è una donna d'oro a buon intenditor e credeva fermamente nel suo amore per l'arte e nella competenza in questo settore una volta dopo il pranzo dagli Aratov dopo aver parlato della principessa e delle sue serate cercò di convincere Jakov a infranzere almeno per una volta le sue abitudini da una coreta e a permettere a lui Kupfer di presentarlo alla sua amica all'inizio Jakov non voleva nemmeno ascoltare ma cosa credi esclamò alla fine Kupfer che cosa credi che voglio dire presentazione ti vengo a prendere semplicemente ecco come sei ora in giacchetta e ti porto là per una serata là non c'è nessuna etichetta caro tu sei un uomo colto ami la letteratura e la musica Aratov nello studio aveva in effetti un pianoforte sul quale ogni tanto eseguiva degli accordi in settima diminuita e la sua casa è piena di tutte queste belle cose e là incontrerai gente simpatica senza nessuna pretesa e inoltre non è possibile alla tua età e con il tuo fisico Aratov abbassò gli occhi e fece un gesto di diniego con la mano sì sì con il tuo fisico evitare così la società il mondo in fondo non ti porto a casa di generali peraltro io non ne conosco di generali non in testa a dirti mio caro la moralità è una bella cosa degna di rispetto ma non al punto di finire nell'ascetismo non avrai intenzione di farti monaco vero? Aratov però continuava a resistere ma in aiuto a Kupfer venne inaspettatamente Platoni da Ivanovna anche se non capiva bene che cosa significasse la parola ascetismo trovava però che a Yashenka non avrebbe fatto male divertirsi vedere e frequentare gente tanto più aggiunse che io ho piena fiducia di Fiodor Fiodorovic non ti porterebbe in un posto malfamato ve lo riporterò puro e senza macchia esclamò Kupfer al quale Platoni da Ivanovna nonostante la fiducia aveva lanciato sguardi inquieti Aratov arrossì fino alle orecchie ma smise di opporsi e così finì che il giorno dopo Kupfer lo portò a una serata della principessa Maratov non vi restò a lungo innanzitutto vi trovò una ventina di ospiti uomini e donne forse simpatici ma pur sempre degli estranei e questo lo intimidiva molto tuttavia non dovette quasi fare conversazione che era quello che lui temeva di più in secondo il luogo non gli era piaciuta la padrona di casa anche se lei lo aveva accolto con semplicità e cordialità niente in lei gli era piaciuto il viso truccato i capelli arrizzati la voce rauca e dolciastra il riso stridulo il modo di rivolgere gli occhi al cielo la scollatura eccessiva e quelle dita lucide e grassocce con una gran quantità di anelli sistematosi in un angolo ora scorreva rapidamente con gli occhi tutti i visi degli invitati senza riuscire stranamente a distinguere gli uni dagli altri ora con ostinazione si fissava i piedi quando poi alla fine un artista di passaggio dal volto emaciato con i capelli lunghissimi e il monocolo incastrato sotto il sopracciglio si sedette al pianoforte e battendo con forza le mani sui tasti e i piedi sui pedali cominciò a massacrare una fantasia di Liszt sui temi di Wagner Aratov non resistette più e se la svignò portando nell'animo un'impressione vaga e pesante mediante la quale però cercava di farsi strada un vago presentimento inesplicabile ma che lo turbava e lo inquietava Kupfer venne a pranzo il giorno seguente ma non si dilungò a parlare della serata precedente non rimproverò Aratov per la sua fuga precipitosa e si lamentò solo del fatto che non si era trattenuto per la cena in cui avevano servito champagne in realtà era un prodotto di Nisni in Novgorod Kupfer senza dubbio capiva che aveva fatto male a pensare di scuotere il suo amico e che Aratov non era decisamente un uomo adatto a questo tipo di compagnia e genere di vita da parte sua Aratov non parlò né della principessa né della serata precedente Platoni da Ivanovna non sapeva neppure lei se rallegrarsi dell'insuccesso di questo primo tentativo o se rattristarsene infine decise che la salute di Asha avrebbe potuto risentire di serate di questo genere e si tranquillizzò Kupfer uscì subito dopo pranzo e per tutta la settimana non si fece più vedere non perché tenesse il broncio ad Aratov per l'insuccesso della sua presentazione era un bonaccione incapace di questo ma evidentemente aveva trovato un'occupazione che assorbiva tutto il suo tempo tutti i suoi pensieri tanto che anche in seguito fece raramente visita agli Aratov e quando veniva stava lì con aria distratta parlava poco e spariva all'improvviso Aratov continuava a vivere come prima ma aveva ormai se ci si può esprimere così una piccola spina piantata nella sua anima si sforzava di ritrovare qualcosa nella sua memoria ma non avrebbe saputo dire cosa e questo qualcosa era legato alla serata passata dalla principessa con tutto ciò non voleva assolutamente tornare da lei e quel mondo che aveva contemplato a casa sua gli ripugnava più di prima passarono così sei settimane ed ecco che un giorno gli comparve davanti Kupfer con un'aria alquanto turbata so cominciò con un sorriso forzato che la visita di quella sera non è stata di tuo gusto ma accetterai comunque la mia proposta spero e non respingerai la mia preghiera di che cosa si tratta domandò Aratov ecco vedi continuò Kupfer animandosi sempre di più qui c'è una società di dilettanti di artisti che ogni tanto organizzano delle conferenze pubbliche dei concerti delle rappresentazioni teatrali a scopo benefico e la principessa vi partecipa interruppe Aratov la principessa partecipa sempre alle buone iniziative ma questo non ha importanza abbiamo organizzato una mattinè letterario musicale durante la quale tu potrai ascoltare una fanciulla una fanciulla meravigliosa ancora non sappiamo bene se sia una Raquel o una Viardot perché canta e declama e suona tutto meravigliosamente un talento caro amico di prima classe e non esagero ecco non comprereste un biglietto cinque rubri il posto in prima fila e da dove viene questa meravigliosa fanciulla domandò Aratov Kupfer fece un largo sorriso questo non so dirtelo in questi ultimi tempi era ospite della principessa la principessa tu lo sai protegge tutte queste persone ma tu l'hai vista di sicuro alla serata dell'altro giorno Aratov ebbe un sussulto interiore impercettibile ma non disse niente ha anche recitato in qualche posto in provincia continuò Kupfer insomma è fatta per il teatro ma lo vedrai tu stesso come si chiama chiese Aratov Clara lo interruppe per la seconda volta Aratov non può essere perché non può essere Clara Clara Milic non è il suo vero nome ma la chiamano così canterà una romanza di Glinka e Tchaikovsky e poi leggerà la lettera da Leugenio Negin allora lo prendi il biglietto e quando sarà domani domani all'una e mezzo in una sala privata sulla Ostozenka passerò a prenderti un biglietto da 5 rubli eccolo no questo è da 3 rubli eccolo prendi anche il programma io sono uno degli organizzatori Aratov rimase pensieroso Platoni da Ivanovna che entrava in quell'istante si allarmò immediatamente vedendo il suo viso Yasha esclamò cosa ti è successo perché sei così turbato Fyodor Fyodorovic che cosa ti ha detto ma Aratov non lasciò che il suo amico rispondesse alla domanda della zia e afferrando frettolosamente il biglietto che l'amico gli porgeva ordinò a Platoni da Ivanovna di dare subito 5 rubli a Kupfer meravigliata sbattendo gli occhi per la sorpresa diede comunque il denaro a Kupfer senza dire una parola il suo Yashenka aveva gridato in tono imperioso ti dico che è il miracolo dei miracoli esclamò Kupfer e si precipitò verso la porta aspettami domani agli occhi neri gli chiese Aratov da dietro come il carbone gridò allegramente Kupfer e sparì Aratov andò in camera sua e Platoni da Ivanovna rimase lì immobile sussurrando più volte aiutaci signore signore aiutaci 4 il grande salone in una casa privata sulla Ostozenka era già mezzo pieno di spettatori quando arrivarono Aratov e Kupfer in questa sala si tenevano qualche volta degli spettacoli teatrali ma questa volta non c'erano né scenari né sipario gli organizzatori della mattinè si erano limitati a innalzare a una delle estremità della sala una pedana sulla quale avevano sistemato un pianoforte due leggi alcune sedie un tavolo con una brocca d'acqua e dei bicchieri e ricoprire con un panno rosso la porta che immetteva in una stanza riservata agli artisti in prima fila era già seduta la principessa con un abito di un verde brillante Aratov prese posto a una certa distanza da lei scambiando appena un inchino il pubblico era come si suol dire di tutti i tipi la maggior parte erano giovani studenti Kupfer che era uno degli organizzatori portava un nastro bianco sul disvolto del frac e si dava un gran da fare la principessa era visibilmente molto commossa guardava a destra e a sinistra mandava sorrisi da ogni parte parlava coi vicini accanto a lei erano soltanto uomini si presentò per primo sulla pedana un flautista dall'aspetto tisico e con grande zelo sputò mi correggo fischiettò un'aria anch'essa tisica due persone gridarono bravo poi un signore grasso con gli occhiali con aria molto grave e quasi cupa lasse con voce di basso un brano di Shedrin applaudirono il brano non lui quindi arrivò il pianista che Aratov già conosceva e pestò sui tasti come un tamburo la stessa fantasia di Liszt il pianista fu onorato da una richiesta di bis si inchinò appoggiando le mani sulla spalliera della sedia e dopo ogni inchino agitava i capelli all'indietro proprio come Liszt finalmente dopo un intervallo abbastanza lungo il panno rosso che nascondeva la porta dietro la pedana si mosse si spalancò e apparve Clara Bilitz la sala riecheggiò di applausi a passi incerti lei raggiunse la parte anteriore del palco si fermò e rimase immobile incrociando le belle lunghe mani nude senza inchinarsi senza piegare la testa e senza sorridere era una ragazza di circa diciannove anni alta con le spalle un po' larghe ma ben fatta il viso olivastro dei lineamenti vagamente ebraici o zingareschi gli occhi abbastanza piccoli neri sotto le folte sopracciglia il naso dritto un po' all'insù le labbra sottili con una curva bella ma marcata un'enorme trezza nera di cui si indovinava la pesantezza la fronte bassa immobile quasi pietrificata orecchie minuscole l'espressione del volto e l'insieme era pensosa quasi severa indicava una natura appassionata decisa forse limitata nella bontà e nell'intelligenza ma indubbiamente ricca di talento per un po' non alzò gli occhi ma poi d'improvviso si scosse e percorse le file degli spettatori con il suo sguardo fisso ma distratto quasi rivolto alla sua anima gli occhi tragici osservò un bel ingusto dai capelli grigi che sedeva dietro ad Aratov con un viso da cocotte di Ravel conosciuto a Mosca come un grande intrigante spione il bel imbusto era sciocco e voleva dire sciocchezze ma diceva invece la verità Aratov che dal momento in cui era comparsa Clara non aveva più distolto lo sguardo da lei solo allora si ricordò che effettivamente l'aveva incontrata dalla principessa e che non solo l'aveva vista ma aveva notato che lei molte volte con particolare insistenza lo aveva guardato con i suoi occhi scuri e fissi in quello stesso istante o non era che un'impressione gli sembrò che la El scorgendolo in prima fila si rallegrasse arrossisse e lo guardasse ancora una volta fissamente poi senza voltarsi fece due passi verso il pianoforte al quale era già seduto il suo accompagnatore lo straniero dai capelli lunghi doveva eseguire la romanza di Glinka dal momento che ti ho vista iniziò subito a cantare senza cambiare la posizione delle mani e senza guardare lo spartito aveva una voce sonora e morbida da contralto pronunciava le parole con molta chiarezza e autorità cantava in modo uniforme senza sfumature ma con una grande forza emotiva canta con convinzione la fanciulla disse il solito bell'imbusto che sedeva dietro ad Aratov e che questa volta aveva detto la verità grida di bis bravo risuonarono ma lei lanciò un rapido sguardo ad Aratov che non gridava e non applaudiva non gli era piaciuto in maniera particolare il suo modo di cantare si inchinò leggermente e uscì senza accettare il braccio piegato a ciambella del chiomato pianista fu richiamata ricomparve poco dopo e sempre con passi esitanti si avvicinò al pianoforte e dopo aver detto due parole all'accompagnatore che dovette cercare e metterle davanti un altro spartito diverso da quello preparato intonò la romanza di Tchaikovsky no solo chi ha conosciuto il desiderio di un incontro cantò questa romanza in modo diverso dalla prima a mezza voce quasi con stanchezza e solo il penultimo verso comprenderà quanto ho sofferto e uscì un grido pieno di passione l'ultimo verso e quanto io soffro lo cantò quasi sussurrando trascinando l'ultima parola con dolore questa romanza suscitò nel pubblico meno impressione di quella di Glinka comunque gli applausi furono molti si fece notare soprattutto Kupfer le sue mani si congiungevano in forma di botte ogni volta che le batteva l'una contro l'altra e producevano così un rumore particolarmente sonoro la principessa gli porse un gran mazzo di fiori ormai appassiti perché lo portasse alla cantante ma questa come se non avesse notato Kupfer che le si inchinava davanti e le porgeva il mazzo di fiori si girò e uscì anche questa volta senza aspettare il pianista che si era alzato più in fretta di prima per accompagnarla e che rimase lì con le braccia penzoloni gettando indietro i capelli così vigorosamente come List non aveva mai fatto per tutta la durata della romanza Aratov aveva osservato il viso di Clara gli sembrava che i suoi occhi attraverso le palpebre socchiuse fossero come prima rivolti verso di lui ma quello che soprattutto lo aveva colpito era l'immobilità di quel viso della fronte delle sopracciglia e soltanto a quell'appassionato grido notò attraverso le labbra appena dischiuse il caldo splendore dei suoi denti bianchi e serrati Kupfer si avvicinò a lui dunque mio caro come la trovi chiese raggiante di soddisfazione una bella voce rispose Aratov ma non sa ancora cantare non ha una vera tecnica perché avesse detto quello e che concetto avesse della parola tecnica Dio solo lo sa Kupfer si meravigliò non ha tecnica ripete facendo una pausa ma questo ancora tempo per imparare ma che anima aspetta di sentirla nella lettera di Tatiana si allontanò in fretta da Aratov quest'ultimo pensò anima con quel viso immobile trovava che lei si comportasse e si muovesse come un'ipnotizzata come una sonnambula e nello stesso tempo senza alcun dubbio sì senza alcun dubbio lei lo guardava intanto la matinee continuava l'uomo grasso con gli occhiali apparve di nuovo nonostante il suo aspetto austero pensava di essere un comico e declamò una scena di Gogol senza ottenere questa volta nessun segno di approvazione il flautista fece di nuovo una rapida apparizione rumoreggiò di nuovo il pianista un ragazzo dodicenne impomatato e con i capelli arricciati ma con tracce di lacrime sulle guance strimpellò sul violino alcune variazioni una sola cosa poteva sembrare insolita negli intervalli fra i brani di lettura e di musica dalla stanza degli artisti arrivavano i suoni spezzati di un corno ma questo strumento rimase di fatto inutilizzato alla fine si venne a sapere che il dilettante che si era proposto per suonare questo strumento si era intimidito al momento di entrare in scena ecco finalmente riapparire Clara Militz teneva in mano un piccolo volume di Pushkin ma durante la sua declamazione non lo guardò mai era chiaro che era intimidita il piccolo libro tremava leggermente fra le sue dita Aratov notò anche un'espressione di scoramento diffusa in tutti i suoi lineamenti severi il primo verso io vi scrivo che altro più lo pronunciò in modo straordinariamente semplice quasi sincera e con un gesto ingenuo sincero e impotente tesi in avanti tutte e due le braccia poi affrettò un po' la declamazione ma già dai versi un altro no a nessun altro al mondo darei il mio cuore si rincuorò si animò e quando arrivò alle parole tutta la mia vita è stata un pegno del fedele incontro con te la sua voce fino a quel momento un po' rauca risuonò in modo trionfale ardito e i suoi occhi fissarono il volto di Aratov con la stessa baldanza ed audacia proseguì con lo stesso fervore e solo verso la fine la voce ridiventò bassa riflettendo come il suo viso lo stesso scoramento di prima gli ultimi quattro versi li rovinò completamente il volume di Puskin le scivolò improvvisamente dalle mani e abbandonò velocemente la scena il pubblico cominciò ad applaudire freneticamente a chiedere bis specialmente un seminarista ucraino gridava così forte miliz miliz che il suo vicino lo pregò gentilmente con simpatia di risparmiare la voce di un futuro protodiacono ma Aratov si alzò di scatto e si diresse verso l'uscita Kupfer lo raggiunse ma scusa dove vai gridò vuoi che ti presenti a Clara no grazie rispose frettolosamente Aratov e quasi di corsa si diresse a casa 5 strane e confuse sensazioni lo agitavano in fondo la declamazione di Clara non gli era piaciuta in modo particolare anche se non riusciva a capirne il motivo quella declamazione lo aveva turbato mi era sembrata brusca senza armonia era come se questa avesse infranto qualcosa in lui come se gli facesse violenza in qualche modo e poi quegli sguardi fissi insistenti quasi fastidiosi a cosa puntavano cosa significavano la modestia di Aratov non ammetteva neppure per un istante l'idea che lui potesse piacere a quella strana fanciulla che lui potesse suscitare un sentimento simile all'amore alla passione e d'altra parte lui stesso non si immaginava affatto così la donna ancora sconosciuta la fanciulla la quale si sarebbe dato e che l'avrebbe amato sarebbe diventata la sua fidanzata sua moglie molto di rado fantasticava su queste cose era vergine d'animo e di corpo ma la pura immagine che nasceva allora nella sua immaginazione era sottilmente velata da un'altra immagine quella della madre morta che lui ricordava appena ma il cui ritratto conservava come una reliquia questo ritratto ad acquarello era un'opera molto maldestra di una vicina amica di sua madre ma la somiglianza detta di tutti era sorprendente era quel dolce profilo erano quegli occhi chiari e piani di bontà quei capelli di seta quel sorriso quella serena espressione che avrebbe dovuto avere quella donna quella fanciulla che ancora non osava aspettare ma questa bruna dalla pelle olivastra e dai capelli ruvidi dalla peluria sulle labbra era certamente cattiva ed eccentrica questa zingara Aratov non poteva trovare un'espressione peggiore cos'era per lui ma tuttavia Aratov non aveva la forza di scacciare dalla testa quella zingara bruna della quale non gli erano piaciuti né il canto né la declamazione e neppure l'aspetto era stupito e arrabbiato con se stesso non molto tempo prima aveva letto il romanzo di Walter Scott la fonte di Saint Ronan le opere complete di Walter Scott erano nella biblioteca di suo padre che stimava il romanziare inglese come uno scrittore serio quasi scientifico l'eroina di questo romanzo si chiamava Clara Mowbray un poeta degli anni 40 Krashov aveva scritto su direi una poesia che finiva con queste parole infelice Clara folle Clara infelice Clara Mowbray Aratov conosceva anche questa poesia ed ecco che ora quelle parole gli tornavano di continuo alla memoria infelice Clara folle Clara per questo motivo si era meravigliato quando Kupfer gli aveva nominato Clara Milits la stessa Platoscia aveva notato in Yasha non tanto un cambiamento di umore dato che in realtà niente era cambiato in lui ma un certo non so che filtrava dal suo sguardo dai suoi discorsi con prudenza lo interrogò sulla matinee letteraria alla quale aveva partecipato sussurrava sospirava lo guardava davanti di lato dietro e improvvisamente battendo le mani sui fianchi esclamò ecco Yasha ho capito di cosa si tratta di che cosa domandò Aratov evidentemente in quella matinee hai incontrato una di quelle le pavoncelle così Platoni da Ivanovna chiamava tutte le signore che portavano abiti alla moda una donna dal musetto paffuto che fa le smorfie così e le smorfie cosà Platoscia mimava tutto questo con i movimenti del viso e che fa roteare gli occhi questo lo mimava facendo dei grossi cerchi in aria con l'indice tu non ci sei abituato e ti è sembrato ma questo non vuol dire niente Yasha non significa niente bevi la tua tisana prima di andare a letto e basta così signore aiutaci Platoscia tacque e se ne andò non aveva mai pronunciato un discorso tanto lungo e animato e Aratov pensò la zia ha sicuramente ragione tutto questo viene dalla mia mancanza di esperienza era in realtà la prima volta che aveva richiamato l'attenzione di una persona di sesso femminile o almeno non se ne era mai accorto prima non bisogna montarsi la testa e tornò ai suoi libri e prima di andare a letto prese una tisana dormì bene tutta la notte senza fare sogni il giorno dopo come se non fosse successo niente si dedicò alla fotografia ma verso sera la pace del suo spirito fu turbata di nuovo 6 ed ecco perché un fattorino gli portò un biglietto scritto con una calligrafia femminile grande e irregolare questo biglietto diceva se lei indovinerà chi le scrive e se questo non le dispiace venga domani dopo pranzo al boulevard Tverskoy verso le 5 e aspetti non dovrà trattenersi a lungo ma è molto importante venga non c'era la firma Aratov indovinò immediatamente chi era il suo corrispondente e questo lo indignò molto che assurdità disse a voce quasi alta non ci mancava che questo naturalmente non ci andrò ordinò comunque di far venire il fattorino la quale apprese che la lettera gli era stata consegnata da una cameriera per strada dopo averlo congedato Aratov rilesse la lettera la gettò sul pavimento per accoglierla qualche istante dopo e rileggerla ancora e di nuovo esclamò che assurdità questa volta però non gettò la lettera per terra e la nascose in un cassetto Aratov riprese le sue solite occupazioni ora questa ora l'altra ma non riusciva a concentrarsi non combinava niente e all'improvviso si accorse che stava aspettando Kupfer voleva chiedergli o forse confidargli ma Kupfer non si fece vedere poi Aratov prese Puschi lesse la lettera di Tatiana e di nuovo si convince che quella zingala non aveva per niente capito il vero significato di quella lettera e quel buffone di Kupfer che gridava Raquel vi ardò poi si avvicinò al suo pianoforte alzò il coperchio con un gesto quasi meccanico cercando di ricordare la melodia della romanza di Tchaikovsky ma subito richiuse il coperchio con rabbia e andò dalla zia nella sua stanza sempre molto calda dove c'era un perenne odore di menta di salvia e di altre erbe medicinali e tanti tappetini scaffali sgabellini cuscinetti e altri accessori morbidi che a meno di esservi abituati si faceva fatica a rigirarsi e a respirare in quell'atmosfera opprimente Platonida Ivanovna sedeva vicino alla finestra con i ferri della maglia in mano stava facendo una sciarpa per Yashenka in tutta la sua vita ne aveva già fatte trentotto restò molto sorpresa Aratov non andava quasi mai da lei e se aveva bisogno di qualcosa ogni volta gridava con voce acuta dal suo studio zia Platoska tuttavia lo fece sedere e restò in attesa delle sue prime parole si mise a guardarlo con un occhio attraverso gli occhiali rotondi e con l'altro al di sopra degli occhiali non si informò della sua salute e non gli offrì del tè perché capiva che non era venuto per questo Aratov induciò un po' poi cominciò a parlare cominciò a parlare di sua madre di come vivevano con suo padre e di come suo padre l'aveva conosciuta tutte queste cose le sapeva benissimo ma era di questo che aveva voglia di parlare per sua disgrazia Platoska non sapeva conversare rispondeva brevemente come se sospettasse che Yasha non era lì per quello allora ripetè in fretta sferruzzando quasi con una punta di malumore certo tua madre era una colomba una colomba e tuo padre l'amava come si conviene a un marito fedelmente e onestamente fino alla tomba e non ha mai amato nessun'altra donna aggiunse alzando la voce e togliendosi gli occhiali e aveva un carattere timido chiese dopo un attimo di silenzio certo timido come si conviene al sesso femminile quelle sfrontate sono venite fuori in questi ultimi tempi e ai vostri tempi non ce n'erano di sfrontate ce n'erano anche ai nostri tempi e come no ma chi qualche sguadrinella qualche svergognata alza la gonnella non si preoccupavano troppo sai al primo imbecillo venuto mettevano il guinzaglio ma le persone serie le disprezzano ricordi forse di aver visto persone simili in casa nostra Aratov non rispose e se ne tornò nel suo studio Platoni da Ivanovna lo guardò uscire scosse la testa si rimise gli occhiali e riprese la sua sciarpa ma di tanto in tanto si metteva a pensare e faceva cadere i ferri sulle ginocchia quanto ad Aratov fino a notte fonda niente da fare ricominciò con quell'irritante esasperante pensiero del biglietto della zingara dell'appuntamento fissato al quale sicuramente non sarebbe andato anche durante la notte questo pensiero lo turbò davanti gli balenavano continuamente gli occhi di lei ora socchiusi ora spalancati con il loro sguardo insistente fisso su di lui e quei tratti con la loro espressione imperiosa il mattino seguente di nuovo chissà perché aspettava Kupfer stava per scrivergli una lettera ma non ne fece niente d'altra parte passò la maggior parte del tempo a camminare su e giù per lo studio nemmeno per un istante gli passò per la testa l'idea di andare a quello stupido rendezvous e alle tre e mezzo dopo aver frettolosamente pranzato improvvisamente indossò il mantello si mise il cappello ed inascosto dalla zia uscì e si diressa al boulevard Tvarskoy 7 Aratov vi incontro a pochi passanti il tempo era umido e abbastanza freddo si sforzava di non pensare a quello che stava facendo e cercava di rivolgere l'attenzione a tutti quegli oggetti che gli capitavano sotto gli occhi come per convincersi che era uscito per passeggiare come quei passanti la lettera della sera prima era sulla sua tasca laterale e ne sentiva continuamente la presenza percorse due volte il boulevard osservando attentamente tutte le figure femminili che venivano verso di lui e il suo cuore batteva batteva sentendosi affaticato si sedette un momento su una panchina e improvvisamente gli venne in mente e se questa lettera non l'avesse scritta lei ma qualcun altro un'altra donna in verità questo avrebbe dovuto essergli indifferente e comunque doveva confessare a se stesso che non se lo augurava sarebbe una cosa stupida pensava ancora più stupida dell'altra un'inquietudine nervosa iniziava a impossessarsi di lui ebbe un brivido non esteriore ma interiore diverse volte tirò fuori l'orologio dalla tasca del panciotto guardò il quadrante e lo rimise in tasca e ogni volta dimenticava quanti minuti mancavano alle cinque gli pareva che tutti i passanti lo guardassero in un modo particolare con una certa beffarda meraviglia e curiosità un brutto cane spelacchiato si avvicinò correndo annusò i piedi e si mise a scodinzolare lo scacciò con un gesto d'ira soprattutto gli dava noia un ragazzo di fabbrica con un camiciotto di fustagno che stava seduto su una panca dall'altra parte del boulevard e che ora fischiettando ora grattandosi ora dondolando le gambe avvolte in enormi stivali tutti strappati non smetteva di guardarlo ecco pensava Aratov sicuramente il padrone lo sta aspettando e lui il fanullone se ne sta lì con le mani in mano ma in quel momento gli sembrò che qualcuno gli si fosse avvicinato e rimanesse fermo dietro di lui e gli avvertiva come un respiro tiepido si tirò era lei la riconobbe subito anche se un fitto velo azzurro scuro copriva il suo viso immediatamente si alzò dalla panchina e rimase così senza riuscire a dire neppure una parola anche lei taceva provò un grande turbamento ma il turbamento di lei non era minore Aratov anche attraverso il velo poteva intravedere il suo viso mortalmente pallido fu lei però a parlare per prima grazie cominciò con voce spezzata grazie di essere venuto non lo speravo si tirò leggermente e cominciò a camminare lungo il bulvar Aratov la seguì forse mi giudicherà male continuò senza voltare la testa e in effetti il mio comportamento è molto strano ma ho sentito tanto parlare di lei ma no io non è questo il motivo se lei sapesse avevo tante cose da dirle mio dio ma come fare come fare Aratov camminava accanto a lei restando un po' indietro non vedeva il suo viso vedeva solo il cappello e una parte del velo e la lunga mantella nera ormai lisa tutta la rabbia verso di lei e verso se stesso ritornò all'improvviso tutto il ridicolo e l'assurdo di quell'incontro di quelle spiegazioni fra persone completamente strane su un bulvare in pubblico gli balzarono agli occhi sono venuto in seguito al suo invito disse a sua volta sono venuto gentile signorina le spalle di lei sussultarono impercettibilmente girò in una stradina laterale ed egli la seguì soltanto per chiarire per dissipare lo strano malinteso in seguito al quale lei ha creduto bene di rivolgersi a me a me uno sconosciuto che che ha potuto indovinare come lei si è espressa nella sua lettera che era stata proprio lei a scrivergli e lo ha potuto indovinare solo perché lei durante la matinee letteraria aveva voluto mostrargli troppa troppa evidente attenzione tutto questo discorsetto fu pronunciato da Aratov con quella voce sonora ma indecisa con la quale le persone molto giovani rispondono ad un esame su un argomento sul quale si sono ben preparati era irritato era in collera e questa collera lo aveva reso sciolto nel parlare cosa che di solito non era lei continuava a camminare lungo la stradina a passi lenti Aratov come prima la seguiva da vicino e come prima vedeva soltanto questa povera mantella e il suo cappello che non era affatto nuovo il suo amor proprio soffriva all'idea che lei ora potesse pensare ne è bastato solo un cenno e lui è accorso subito Aratov stava in silenzio e aspettava che lei gli rispondesse ma lei non disse una parola sono pronto ad ascoltarla riprese lui e sarò felicissimo di poterle essere utile in qualche cosa anche se lo confesso sono sorpreso data la mia vita solitaria ma alle sue ultime parole Clara si girò improvvisamente verso di lui ed egli vide un sorriso così spaventato così profondamente triste con gli occhi gonfi di grosse lacrime limpide un'espressione così dolorosa delle labbra socchiuse e quel viso era così bello che involontariamente si fermò e provò un sentimento vicino alla paura e anche compassione e tenerezza ah perché perché è così esclamò lei con una forza irresistibilmente sincera e leale e com'era commovente l'intonazione di quella voce davvero il mio invito la offesa davvero non ha capito niente ah no lei non ha capito niente non ha capito quello che le dicevo e Dio sa cosa lei si sarà immaginato a mio riguardo e non ha neppure pensato quanto mi sia costato scriverle lei si è preoccupato soltanto di se stesso della sua dignità della sua tranquillità ma forse io e con tale forza si premette le mani sulle labbra che si sentirono chiaramente le dita scricchiolare come se io avessi manifestato delle pretese nei suoi confronti come se fossero prima necessari dei chiarimenti gentile signorina lo confesso sono sorpreso di poterle essere utile in qualche cosa ah sono una pazza mi sono ingannata su di lei sul suo viso quando l'ho vista per la prima volta ecco se ne sta lì imparato se almeno dicesse una parola neanche una parola tacque il suo viso avvampò improvvisamente e improvvisamente assunse un'espressione malvagia e insolente Dio mio com'è stupido esclamò scoppiando ad un tratto in una risata stridula com'è stupido il nostro incontro come sono stupida e anche lei fa e c'è un gesto sprezzante con la mano come per allontanarlo dalla sua strada e passandogli vicino forse via dal bulvare sparì quel gesto della mano quella risata offensiva quest'ultima esclamazione restituirono di colpo ad Aratov il suo precedente umore e soffocarono in lui il sentimento che era nato nel suo animo quando con le lacrime agli occhi lei gli si era rivolta di nuovo si arrabbiò e per poco non gridò alle spalle della ragazza che si allontanava lei potrà forse diventare una brava attrice ma perché ha pensato di recitare la commedia a mie spese tornò a casa a grandi passi senza smettere di rimuginare il suo dispetto e la sua indignazione durante tutta la strada ma sentiva tornare attraverso quei sentimenti cattivi ostili il suo malgrado il ricordo di quel bellissimo viso che aveva visto solo per un attimo e si chiese persino perché non le ho risposto quando mi chiedeva almeno una parola non ho fatto in tempo pensava non mi ha dato il tempo di pronunciare quella parola e che parola avrei dovuto pronunciare ma subito scosse la testa e con un tono di disapprobazione esclamò attrice e nel momento stesso in cui pensava questo il suo amor proprio di giovane inesperto nervoso offeso per la prima volta si sentiva lusingato di aver suscitato comunque questa passione ma d'altronde in quel momento continuava a riflettere tutto questo è naturalmente finito devo essere sembrato ridicolo questo pensiero gli era sgradito e di nuovo si irritò contro di lei contro se stesso tornato a casa si chiuse nel suo studio non voleva incontrare platoscia la buona vecchia per due volte si avvicinò alla porta appoggiando l'orecchio al buco della serratura e si limitò a sospirare e a mormorare la sua preghiera ci siamo pensava appena venticinque anni ah è presto presto 8 per tutta la giornata successiva Aratov fu di pessimo umore cosa c'è Yasha gli chiedeva Platoni da Ivanovna oggi sei così scompigliato nel linguaggio originale della vecchia questa espressione definiva in modo abbastanza esatto lo stato d'animo di Aratov egli non riusciva a lavorare e d'altra parte non sapeva lui stesso cosa voleva ora stava di nuovo aspettando Kupfer sospettava che Clara avesse avuto proprio da Kupfer il suo indirizzo e chi altro avrebbe potuto parlare tanto di lui ora era perplesso possibile che potesse finire così la sua conoscenza con lei ora pensava che lei gli avrebbe scritto di nuovo ora si chiedeva se non avrebbe dovuto scrivere lui una lettera ma nella quale avrebbe chiarito tutto perché non voleva nemmeno lasciarla con un'opinione sfavorevole ma in sostanza cosa chiarire ora provava un sentimento quasi di disgusto verso di lei verso la sua insolenza la sua impertinenza ora gli tornava alla mente quel viso indicibilmente commovente e sentiva la voce irresistibile ora ricordava il suo modo di cantare di declamare e non sapeva più se aveva ragione a condannarla senza appello in una parola un uomo scompigliato alla fine stanco di tutto questo decise come si suol dire di sobbarcarsi tutto e di mettere una pietra sopra tutta questa storia che indubbiamente lo distraeva dalle sue occupazioni e turbava la sua tranquillità non gli fu però tanto facile mettere in atto questa decisione passò più di una settimana prima che potesse riprendere la sua routine quotidiana per fortuna Kupfer non si era più fatto vedere come se non fosse più a mosca poco tempo prima della storia Aratov aveva cominciato a interessarsi di pittura in relazione alla sua passione per la fotografia riprese quest'occupazione con rinnovato impegno così impercettibilmente con alcune ricadute come si esprimono i medici per esempio un giorno per poco non andò a far visita alla principessa passarono due tre mesi e Aratov ritornò ad essere quello di prima ma là nel suo fondo sotto la superficie della sua vita qualcosa di pesante e di oscuro lo accompagnava segretamente in tutti i suoi passi proprio come un grosso pesce che preso al lamo ma non ancora tirato su nuota nelle profondità del fiume proprio sotto la barca su cui siede il pescatore che tiene in mano la sua solida lenza ma ecco che un giorno scorrendo un vecchio numero delle notizie moscovite Aratov si imbatté nella seguente notizia con grande rammarico scriveva un oscuro corrispondente di Kazan riportiamo nella nostra rubrica teatrale la notizia dell'improvvisa morte della nostra grande attrice Clara Militz che era riuscita nonostante la brevità della sua carriera sulla scena a conquistare i favori del nostro esigente pubblico il rammarico che proviamo è tanto più profondo in quanto la signora Militz ha messo fine volontariamente alla sua giovane vita tanto promettente con del veleno e il fatto è tanto più terribile in quanto l'artista ha ingerito il veleno in teatro hanno fatto appena in tempo a portarla a casa dove con rimpianto generale è morta in città si dice che un amore sfortunato sarebbe all'origine di questo terribile gesto Aratov lentamente appoggiò il giornale sul tavolo apparentemente rimase assolutamente tranquillo ma subito qualcosa lo colpì al petto e alla testa un colpo le cui ripercussioni si propagavano ora lentamente in tutte le membra si alzò rimase per un po' in piedi poi si rimise a sedere e rilesse l'articolo poi si alzò di nuovo si sdraiò sul letto e con le mani dietro la testa con uno sguardo annebbiato rimase a lungo a fissare il muro a poco a poco questo muro sembrava dissolversi sparire ed egli vide davanti agli occhi il boulevard sotto un cielo grigio e lei con il mantello nero poi ancora lei sul palcoscenico e vede anche se stesso vicino a lei e quello che lo aveva fortemente colpito al primo istante al petto cominciò ora a salire salire fino alla gola voleva tossire voleva chiamare qualcuno ma la voce gli mancò e con grande stupore dai suoi occhi cominciarono a scorrere lacrime infrenabili che cosa aveva provocato quelle lacrime pietà pentimento o semplicemente i suoi nervi non avevano retto a quella improvvisa scossa lei in definitiva non era niente per lui non è così e se questo non fosse vero all'improvviso gli balenò questo pensiero bisogna informarsi ma da chi dalla principessa no da kupfer da kupfer e se come dicono non è a mosca pazienza per prima cosa bisogna andare da lui con queste riflessioni aratov si vestì in fretta preso una vettura e si fece portare da kupfer non sperava di trovarlo e invece lo trovò kupfer era stato effettivamente lontano da mosca per qualche tempo ma era tornato già da una settimana e stava di nuovo per andare a trovare aratov lo accolse con la solita cordialità e cominciò a spiegargli non so che cosa quando aratov lo interruppe subito chiedendogli con impazienza lo hai letto è vero è vero che cosa rispose kupfer stupito a proposito di clara milic il volto di kupfer prese un'espressione triste si si mio caro si è avvelenata che disgrazia aratov tacque per un attimo ma anche tu lo hai letto sul giornale domandò o forse eri andato a kazan si ci sono andato a kazan io e la principessa l'avevamo accompagnata ha recitato e ha avuto un gran successo però non sono rimasto fino alla catastrofe io ero a yaroslav a yaroslav si avevo accompagnato la principessa ora si è stabilita a yaroslav ma le tue informazioni sono sicure sicurissime di prima mano a kazan avevo conosciuto la sua famiglia ma aspetta caro mi sembra che questa notizia ti turbi molto ma ti ricordi clara non ti era piaciuta allora peccato era una ragazza meravigliosa ma una testa una testa sventata mi sono tanto addolorato per lei aratov non disse una parola e si lasciò cadere su una sedia e dopo un po' pregò kupfer di raccontargli non riuscì a finire la frase cosa? domandò kupfer si tutto rispose aratov dopo una pausa ecco a proposito della sua famiglia e del resto tutto quello che sai ah bene questo ti interessa scusa e kupfer dal cui viso non traspariva certo un particolare dolore per clara iniziò a raccontare dalle sue parole aratov seppe che il vero nome di clara milic era caterina milovidova che suo padre ormai morto era stato insegnante di disegno al liceo di kazan che dipingeva brutti ritratti e icone su ordinazione dello stato e aveva inoltre la fama di ubriacone e di tiranno in casa eppure era un uomo colto qui kupfer scoppiò in una risata alludendo al suo kalembur e che alla sua morte aveva lasciato innanzitutto una vedova appartenente a una famiglia di mercanti una donna veramente stupida che sembrava uscita dalle commedie di ostrovski e poi una figlia molto più vecchia di clara e che non le assomigliava per niente una ragazza molto intelligente ma esaltata malata una ragazza straordinaria molto evoluta mio caro la vedova e la figlia vivevano senza privazioni in una casetta decente acquistata grazie ai proventi di quei brutti ritratti ed icone che clara o se vuoi katia fin dall'infanzia colpiva tutti per il suo talento ma che aveva un carattere ribelle capriccioso e che era sempre in lite con il padre che avendo un'innata passione per il teatro a 16 anni era scappata dalla casa paterna con un'attrice con un attore lo interruppe Aratov no non con un attore con un'attrice alla quale si era affezionata questa attrice è vero aveva un protettore un signore ricco e ormai vecchio che non l'aveva sposata soltanto perché era già sposato e anche l'attrice era mi sembra una donna sposata poi kupfer informò Aratov che clara prima di venire a mosca aveva cantato e recitato nei teatri di provincia che dopo aver perso la sua amica attrice anche quel signore pare fosse morto o fosse tornato con sua moglie questo kupfer non lo ricordava bene aveva conosciuto la principessa quella donna d'oro che tu amico mio Jacob Andriech aggiunse il narratore con convinzione non hai saputo apprezzare come meritava che infine avevano offerto a clara una scrittura a casan e che lei l'aveva accettata anche se prima aveva assicurato che non avrebbe mai abbandonato mosca è straordinario come la massero gli abitanti di casan ad ogni rappresentazione mazzi di fiori e un regalo un commerciante di grano la persona più importante del governatorato aveva perfino offerto un calamaio d'oro kupfer raccontava tutte queste cose con molta animazione senza mostrare nessun particolare sentimentalismo e interrompendo ogni tanto il discorso con domande di questo genere perché lo vuoi sapere oppure cosa te ne importa quando Aratov che lo ascoltava con un'attenzione famelica esigeva altri particolari sempre più precisi dopo aver raccontato tutto kupfer tacque e si prese un sigaro a ricompensa della fatica ma perché dunque si è avvelenata chiese Aratov nel giornale era scritto kupfer fece un gesto con le mani ma questo non te lo posso dire non lo so il giornale racconta delle fandonie Clara si comportava in modo esemplare nessun amoruccio e com'era possibile con quell'orgoglio era orgogliosa come satana e inaccessibile una testa sventata dura come una pietra credi a me che l'ho conosciuta da vicino non le ho mai visto una lacrima io l'ho vista pensò dentro di sé Aratov c'è una cosa però continuò kupfer negli ultimi tempi avevo notato in lei un grande cambiamento era diventata malinconica silenziosa e per ore intere non era possibile tirarle fuori una parola io le chiedevo qualcuno l'ha offesa Caterina Semionovna perché io conoscevo il suo carattere non poteva sopportare di essere offesa taceva e basta anche i successi in teatro non la rallegravano piovevano mazze di fiori e lei non sorrideva neppure al calamaio d'oro diede un'occhiata una volta e poi lo mise da parte si lamentava che nessuno scrivesse per lei una vera parte come la voleva lei e aveva completamente rinunciato al canto e caro mio la colpa è mia io le avevo riferito che allora tu avevi trovato che mancava di tecnica tuttavia perché si è avvelenata è incomprensibile e in che modo si è avvelenata qual era il ruolo in cui aveva più successo Aratov avrebbe voluto sapere in che ruolo avesse recitato l'ultima volta ma chissà perché chiese un'altra cosa se ben ricordo nella grunia di Ostrovski ma ti ripeto nessun amoruccio pensa solo a questo viveva nella casa della madre sai come sono quelle case di mercanti in ogni angolo delle icone che hanno davanti delle lampade accese dove si soffoca dal caldo dove c'è odore di salamoia nel salotto soltanto sedi allineate lungo le pareti alle finestre gerani e quando arriva un ospite la padrona comincia a gridare come se entrasse un nemico come era possibile lì corteggiare e amoreggiare qualche volta non lasciavano entrare neanche me la loro cameriera una donna robusta con un sarafan di cotone rosso dal petto cascante ti si mette davanti all'ingresso e ruggisce dove va no decisamente non capisco perché si sia avvelenata significa che era stanca di vivere così concluse filosoficamente Kupfer al termine delle sue considerazioni Aratov se ne stava seduto a testa bassa puoi darmi l'indirizzo di quella casa a Kazan? chiese alla fine sì posso ma che te ne fai o forse vuoi mandare una lettera può darsi come vuoi ma la vecchia non ti risponderà perché è analfabeta forse la sorella che sorella intelligente ma ripeto mi è meraviglio di te caro mio prima ma quale indifferenza e ora quale curiosità tutto questo amico mio dipende dalla solitudine Aratov non rispose niente a questa osservazione e uscì dopo aver preso nota dell'indirizzo di Kazan mentre andava verso la casa di Kupfer sul suo viso erano dipinti agitazione stupore attesa ora invece camminava con passo regolare con gli occhi bassi con il cappello calato sulla fronte quasi tutti i passanti lo seguivano con uno sguardo incuriosito ma egli non li notava non era il bulvar era un'altra cosa infelice Clara folle Clara sentiva eccheggiare nell'anima 10 comunque il giorno seguente Aratov lo trascorse abbastanza tranquillamente riuscì anche a dedicarsi alle solite occupazioni c'era soltanto una cosa sia durante le occupazioni sia durante il tempo libero pensava continuamente a Clara a quello che gli aveva detto il giorno prima Kupfer a dire il vero però i suoi pensieri erano piuttosto tranquilli gli pareva che quella strana fanciulla lo interessasse dal punto di vista psicologico come una specie di enigma per risolvere il quale valesse la pena di rompersi il capo è fuggita per farsi mantenere da un'attrice pensava e poi si è messa sotto la protezione di quella principessa presso la quale sembra avesse abitato e senza qualche amoruccio è un verosimile Kupfer dice orgoglio ma in primo luogo noi sappiamo Aratov avrebbe dovuto dire noi abbiamo letto sui libri noi sappiamo che l'orgoglio può convivere con un comportamento leggero in secondo luogo come ha potuto così orgogliosa dare un appuntamento a un uomo che avrebbe potuto mostrarle il suo disprezzo e glielo ha mostrato e per di più in un luogo pubblico su un boulevard a quel punto Aratov rievocò l'intera scena sul boulevard e si domandò ho veramente dimostrato del disprezzo a Clara no decise era un altro sentimento stupore sfiducia in fin dei conti infelice Clara di nuovo riecheggiò nella sua mente sì infelice ammise ancora una volta questa è la parola adatta e se le cose stanno così allora sono stato ingiusto lei diceva giustamente che io non l'avevo capita che peccato una creatura così straordinaria dopo tutto è passata vicino a me e io non ho saputo afferrare l'occasione e l'ho respinta andiamo non è grave ho ancora tutta la vita davanti a me chissà quanti altri incontri ma perché ha scelto proprio me si guardò allo specchio di fronte al quale passava cosa c'è di speciale in me che casa ho di tanto bello un viso così come tutti gli altri a dire la verità nemmeno lei è una bellezza non è una bellezza ma che viso espressivo immobile ma espressivo un viso simile non lo avevo mai visto e ha del talento cioè aveva un talento incontestabile selvaggio primitivo perfino rozzo ma certo e se è così sono stato ingiusto con lei Aratov con il pensiero ritornò alla matinee letterario musicale e dovette ammettere che si ricordava con chiarezza straordinaria ogni parola cantata o letta da lei e ogni sua intonazione questo non sarebbe accaduto se la fanciulla fosse stata priva di talento e ora tutto questo è nella tomba nella quale lei stessa si è gettata ma in questo io non c'entro non sono colpevole sarebbe perfino ridicolo pensare che io potrei essere colpevole a Aratov venne di nuovo in mente che se anche lei aveva provato qualcosa di quel genere il suo comportamento durante il loro incontro l'aveva sicuramente delusa e per questo motivo era scoppiata in una risata così crudele mentre se ne andava ma dove sono le prove che si è avvelenata per un amore infelice sono i corrispondenti dei giornali che attribuiscono ogni morte del genere a un amore infelice alle persone con un carattere come quello di Clara la vita diventa detestabile e noiosa sì noiosa Kupfer ha ragione si era semplicemente stancata di vivere nonostante i successi e gli applausi Aratov rimase pensieroso sentiva un vero piacere nell'analisi psicologica alla quale si stava abbandonando estraneo fino a quel momento ogni contatto con le donne non sospettava nemmeno quanto importante fosse per lui questa intensa indagine sull'anima femminile significa continuava nelle sue riflessioni che l'arte non la soddisfaceva non riempiva il vuoto della sua vita i veri artisti vivono soltanto per l'arte e per il teatro tutto il resto impallidisce di fronte a quello che essi considerano la loro vocazione lei era una dilettante di nuovo Aratov esitò no la parola dilettante non era appropriata all'espressione di quel volto e a quegli occhi e di nuovo gli passò davanti agli occhi l'immagine di Clara il suo sguardo inondato di lacrime fisso su di lui e con le mani strette premute sulle labbra ah no no sussurrò a che serve così passò l'intera giornata durante il pranzo chiacchierò molto con Platoscia le chiacce del suo passato che il resto lei ricordava e raccontava male dato che non era affatto dotata di eloquenza e durante la sua vita non si era praticamente occupata di niente se non del suo Yasha la rallegrava il fatto che egli quel giorno fosse così buono e affettuoso verso sera Aratov si era tanto calmato da giocare diverse partite a carte con la zia così passò il giorno ma la notte undici la notte cominciò bene si addormentò subito e quando la zia entrò in punta di piedi per benedirlo tre volte nel sonno lo faceva ogni notte egli dormiva e respirava tranquillo come un bambino ma poco prima dell'alba ebbe un sogno ecco cosa sognò camminava per la steppa nuda cosparse di pietre sotto un cielo basso tra i sassi serpeggiava un viottolo vicino oltrò improvviso davanti a lui sorse come una sottile nuvola Aratov lo osservava più da vicino la nuvola si è trasformata in una donna vestita di bianco con una cintura chiara intorno alla vita e si allontana da lui molto velocemente non vede né il suo viso né i suoi capelli nascosti da un lungo velo vuole assolutamente raggiungerla e guardarla negli occhi ma per quanto si affretti lei cammina più velocemente di lui sul viottolo c'è un masso largo e piatto simile a una pietra tombale questa pietra le sbarra la strada la donna si ferma Aratov corre verso di lei lei si volta verso di lui ma egli non può tuttavia vedere i suoi occhi essi sono chiusi il suo volto è bianco bianco come la neve le braccia pendono immobili assomiglia a una statua lentamente senza piegare le membra si china all'indietro e si abbandona sulla pietra ed ecco che Aratov si trova sdraiato accanto a lei disteso completamente come un effigio tombale con le mani incrociate come quelle di un morto a un tratto la donna si alza e fugge via anche Aratov vuole alzarsi ma non riesce a muoversi né ad aprire le mani e non può far altro che seguirla con uno sguardo disperato allora la donna si gira improvvisamente e lui vede degli occhi luminosi pieni di vita in un volto vivo ma sconosciuto la donna ride lo chiama con un cenno della mano ma lui non può muoversi la donna si mette a ridere ancora una volta e si allontana velocemente scuotendo allegramente la testa sulla quale era posata una corona di piccole rose rosso vivo Aratov si sforza di gridare si sforza di liberarsi da questo terribile incubo improvviso tutto si fa scuro intorno e la donna ritorna verso di lui ma non è quella statua sconosciuta è clara si ferma davanti a lui incrocia le braccia e lo guarda severamente attentamente le sue labbra sono chiuse ma Aratov sembra di sentire le parole se vuoi sapere chi sono va laggiù dove? domanda lui laggiù risuona la risposta lamentosa laggiù Aratov si sveglia si siede sul letto accende la candela sul comodino ma non si alza e rimane a lungo in quella posizione tutto infreddolito guardandosi lentamente attorno gli sembra che gli fosse successo qualcosa da quando era a letto e che qualcosa fosse penetrato in lui se fosse impadronito di lui ma come è possibile sussurra inconsciamente esiste forse un simile potere? non poteva più restare a letto si vestì silenziosamente e fino al mattino camminò su e giù per la stanza è strano non pensò neppure per un minuto a Clara non pensò a lei perché aveva deciso di andare a Kazan il giorno dopo pensava soltanto a questo viaggio ma come farlo cosa prendere con sé e al momento in cui poteva condurre la sua inchiesta scoprire la verità e ritrovare la pace e non ci vai diceva parlando con se stesso sicuramente diventerai pazzo aveva paura di questo aveva paura per i suoi nervi era sicuro che non appena avesse visto tutto con i suoi occhi ogni sua ossessione si sarebbe dissipata come quell'incubo notturno per il viaggio mi ci vorrà al massimo una settimana pensò che cos'è una settimana altrimenti non te ne liberi il sole sorse illuminando la stanza ma la luce del giorno non scacciò le ombre notturne che lo avevano assalito e non cambiò la sua decisione a Plato per poco non venne un colpo quando Aratov le comunicò questa decisione cadde letteralmente seduta con le gambe che le cedevano come Akazan perché Akazan sussurrò sbarrando gli occhi che già vedevano poco non si sarebbe meravigliata di più se avesse saputo che Yasha si sposava con la panettiera vicina o che partiva per l'America e per molto tempo Akazan torno fra una settimana rispose Aratov girandosi appena verso la zia che era ancora seduta sul pavimento Platoni da Ivanovla volevo abiettare ma Aratov in modo del tutto insolito e inaspettato si mise a gridare non sono un bambino gridò impallidendo con le labbra tremanti e gli occhi lanciarono lampi maligni ho quasi ventisei anni e so quello che faccio ho diritto di fare quello che voglio non permetterò a nessuno mi dai soldi per il viaggio mi prepari la valigia con la biancheria i vestiti e non mi tormenti torno fra una settimana Platoscia aggiunse con una voce più dolce Platoscia si alzò gemendo non replicò più e si diresse lentamente nella sua stanza Yasha l'aveva spaventata non ho più la testa sulle spalle diceva alla cuoca che l'aiutava a fare le valigie di Yasha non ho più la testa ma un alveare e che tipo di api ci ronzino dentro non lo so Akazan madre mia Akazan la cuoca che il giorno prima aveva visto il guardiano della casa parlare a lungo con una guardia voleva riferire questa circostanza alla signora ma non lo so e si limitò a pensare Akazan più lontano non si potrebbe Platoni da Ivanovna era così confusa che non disse neppure la solita preghiera in una disgrazia simile nemmeno il buon Dio poteva aiutarla il giorno stesso Aratov partì per Kazan 12 appena arrivato in quella città e appena presa una stanza in albergo si precipitò alla ricerca della casa della vedova Milovidova durante il viaggio si sentiva come intorpidito cosa che non gli aveva impedito però di prendere tutte le dovute misure cioè di scendere a Nisli Novgorod per prendere il piroscopo mangiare alle stazioni eccetera come prima era convinto che laggiù tutto si sarebbe chiarito e perciò scacciava tutti i ricordi e i pensieri per concentrarsi soltanto sulla preparazione mentale del discorso con il quale avrebbe esposto alla famiglia di Clara Militz la vera ragione del suo viaggio ed ecco che infine raggiunse lo scopo della sua ricerca infine si fece annunciare lo fecero entrare non senza esitazione e timore ma lo fecero entrare la casa della vedova Milovidova era proprio come l'aveva descritta Kupfer e la vedova assomigliava effettivamente a una mercantessa di Ostrovski anche se era la vedova di un funzionario il marito era stato assessore di collegio non senza qualche difficoltà Aratov scusandosi del suo ardire del carattere insolito della sua visita pronunciò il discorso che si era preparato in anticipo voleva raccogliere tutte le notizie su una giovane artista piena di talento prematuramente scomparsa egli era stato guidato fin lì non da una vana curiosità ma da un profondo interesse per il suo talento di cui era stato un ammiratore disse proprio così un ammiratore poch'infine sarebbe criminale lasciare il pubblico nell'ignoranza di quanto aveva perduto e della ragione per cui le sue speranze erano state deluse la signora Milovidova non interruppe Aratov capiva a malapena ciò che le stava dicendo quell'ospite sconosciuto e sgranava gli occhi su di lui notò tuttavia che aveva un aspetto tranquillo che era vestito decolosamente e non era un briccone in cerca di denaro parla di Katia domandò appena Aratov finì di parlare proprio così di sua figlia ed è venuto da Mosca per questo sì la Mosca soltanto per questo per questo la signora Milovidova improvvisamente si animò lei forse è uno scrittore scrive nelle riviste no non sono uno scrittore e fino ad ora non ho mai scritto nelle riviste la vedova abbassò la testa era perplessa allora per suo interesse personale domandò improvvisamente Aratov non seppe cosa risponderle sull'istante per simpatia e per rispetto del talento disse infine la parola rispetto piacque alla signora Milovidova eh sì disse con un sospiro io sono sua madre e ho sofferto molto per lei è stata una disgrazia improvvisa ma devo dire che si è sempre comportata in maniera stravagante ed è morta nella stessa maniera che vergogna pensi cos'è per una madre e devo ringraziare che abbiano potuto seppellirla cristianamente la signora Milovidova si fece il segno della croce fin da piccola non ha mai voluto piegarsi a nessuno ha abbandonato la casa paterna e infine ha voluto fare l'attrice niente di meno è chiaro che io non l'ho scacciata da casa io l'amavo sono pur sempre sua madre non aveva bisogno di andare in casa d'altri o chiedere l'elemosina insomma a questo punto la vedova si sciolse in lacrime e se lei il signore ricominciò asciugandosi gli occhi con il lembo del fazzoletto ha veramente quell'intenzione e non ha nessuna intenzione disonesta nei nostri confronti ma al contrario vuole dimostrare la sua attenzione allora parli con l'altra mia figlia le racconterà tutto meglio di me annosca gridò la signora Milovedova annosca vieni qua qui c'è un signore venuto da mosca che vuole parlare con te di Katia qualcosa si mosse nella stanza vicina ma nessuno comparve annosca gridò di nuovo la vedova Anna Semionovna vieni sto parlando a te la porta si aprì pian piano e sulla soglia apparve una ragazza non più giovanissima aveva un'aria malaticcia era bruttina ma con occhi molto teneri e tristi Aratov si alzò per andarla incontro e presentarsi e nominò anche il suo amico Kupfer ah Fiodoro Fiedrovic pronunciò la ragazza a voce bassa sedendosi dolcemente su una sedia su dunque parla con il signore disse la signora Milovedova alzandosi con fatica dalla sua sedia è venuto appositamente da Mosca perché vuole raccogliere delle informazioni su Katia lei mi scuserà signore aggiunse rivolgendosi ad Aratov devo andare perché ho delle faccende da sbrigare con Anna Nochka lei potrà avere tutte le spiegazioni che vuole e racconterà anche del teatro e di tutto il resto parla francese e legge libri né più né meno che sua sorella defunta si può dire che l'abbia educata lei era più grande di lei e se ne occupava la signora Milovedova si allontanò rimasto solo con Anna Semionovna Aratov le ripete il suo discorso ma avendo capito dal primo sguardo che aveva a che fare con una ragazza veramente istruita e non con una figlia di mercanti arricchì il suo racconto e usò altre espressioni e verso la fine commosso arrossì e il suo cuore cominciò a battere forte Anna lo ascoltava in silenzio con le mani incrociate un triste sorriso non abbandonava il suo volto e quel sorriso tradiva un dolore amaro un dolore non ancora superato lei conosceva mia sorella domandò ad Aratov no personalmente non la conoscevo rispose mi ero visto con lei e l'avevo sentita una volta ma sua sorella bastava vederla e sentirla una volta vuole scrivere la sua biografia domandò ancora Anna Aratov non si aspettava queste parole tuttavia rispose subito perché no ma soprattutto volevo farla conoscere al pubblico Anna lo fermò con un gesto della mano ma questo perché il pubblico le aveva già dato molti dolori e poi Katia era solo all'inizio della sua vita ma se lei Anna lo guardò e sorrisse di nuovo con quel sorriso triste ma già più cordiale e si sarebbe detto che pensasse sì tu mi ispiri fiducia se prova per lei tanto interesse mi permetta di pregarla di venire da noi questa sera dopo pranzo ora non posso così all'improvviso raccoglierò tutte le mie forze tenterò l'amavo troppo Anna si voltò stava per scoppiare in lacrime Aratov si alzò in fretta dalla sedia la ringraziò per l'invito disse che sarebbe venuto sicuramente sicuramente e uscì portandosi nell'anima il ricordo della voce sommessa degli occhi teneri e tristi soffrendo e tormentandosi per questa attesa 13 Aratov tornò lo stesso giorno in casa Milovidov e per tre ore rimase a parlare con Anna Semionovna la signora Milovidov era andata a dormire subito dopo pranzo verso le due e riposò fino all'ora del tè serale alle sette il colloquio fra Aratov e la sorella di Clara non fu una vera conversazione parlava quasi soltanto lei prima con esitazione imbarazzata ma poi con calore incontenibile era evidente che aveva adorato sua sorella la fiducia che Aratov le aveva ispirato andava aumentando e rafforzandosi non era più imbarazzata e per ben due volte in silenzio aveva versato qualche lacrima davanti a lui egli le sembrava degno delle sue sincere confidenze e del suo suogo nella sua vita solitaria niente di simile le era ancora capitato e lui suggeva ogni sua parola ecco quanto venne a sapere in gran parte naturalmente mezze confidenze che gli completò da sé da piccola Clara era stata indubbiamente una bambina difficile e anche da ragazza non si era per niente raddolcita indisciplinata capricciosa orgogliosa non andava d'accordo soprattutto con il padre che disprezzava per la sua buriachezza e per la sua nullità egli lo sentiva e non glielo perdonava le sue attitudini musicali si rivelarono ben presto ma il padre non le assecondò dato che considerava arte soltanto la pittura nella quale egli stesso non aveva ottenuto grande successo ma che sfamava lui e la famiglia Clara amava sua madre negligentemente come si ama una nutrice adorava la sorella anche se litigava con lei e la mordeva è vero che poi le si inginocchiava davanti e la baciava dove l'aveva morsa era tutto fuoco tutta passione tutta contraddizione vendicativa e buona generosa e astiosa credeva nel destino e non credeva in Dio queste parole Anna le sussurrò con terrore amava tutto quello che era bello ma non si curava della propria bellezza e si vestiva come capitava non sopportava che i giovani le facessero la corte ma nei libri leggeva soltanto le pagine in cui si parlava d'amore e non voleva piacere non amava le carezze e non dimenticava mai una carezza così come non dimenticava un'offesa aveva paura della morte e si era uccisa a volte diceva uno come voglio io non lo troverò e degli altri non ho bisogno e se lo incontri le chiedeva Anna se l'incontro lo prenderò e se lui non si lascia prendere allora mi ucciderò questo vorrà dire che io non valgo niente il padre di Clara a volte ubriaco chiedeva alla moglie da chi hai avuto questo diavoletto dal muso nero non da me il padre di Clara volendo liberarsi al più presto di lei l'aveva promessa in sposa a un giovane ricco mercante un po' stupido ma istruito due settimane prima del matrimonio lei aveva appena sedici anni andò dal suo fidanzato e incrociando le braccia e battendosi le dita sui gomiti era la sua posa preferita l'improvviso gli diede un ceffone sulla guancia rossa con la sua mano grande e forte e gli balzò in piedi e rimasto a bocca aperta bisogna dire che era disperatamente innamorato di lei le chiese perché lei si mise a ridere e se ne andò io ero là nella stanza continuava a raccontare Anna e ho assistito alla scena l'ho rincorsa e gli ho detto Katia scusa cosa ti prende e lei mi ha risposto se fosse un vero uomo mi avrebbe picchiata e invece è un pulcino bagnato e poi mi domanda perché se uno ama e non si vendica allora deve soffrire senza domandare perché non avrà niente da me nei secoli dei secoli così non lo sposò poco dopo conobbe quell'attrice e lasciò la nostra casa la mamma pianse e il papà disse soltanto fuori del greggio la pecora nera e non fece niente per ritrovarla egli non capiva Clara alla vigilia della sua fuga aggiunse Anna lei quasi mi soffocò fra le sue braccia e continuava a ripetere non posso non posso fare diversamente ho il cuore spezzato ma non posso la vostra gabbia è piccola è insufficiente per le mie ali e non si può sfuggire al proprio destino dopo di questo proseguì Anna ci vedemmo raramente quando nostro padre morì venne per due giorni non prese niente dell'eredità e di nuovo sparì si sentiva soffocare in casa nostra lo vedevo poi tornò a Kazan ma come attrice questa volta Aratov cominciò a fare domande ad Anna sul teatro sui ruoli che Clara interpretava sui suoi successi Anna rispondeva senza trascurare i particolari con lo stesso fervore doloroso e però appassionato mostrò persino ad Aratov una fotografia nella quale Clara appariva nel costume di uno dei suoi ruoli nella fotografia guardava da una parte la foltatreccia legata con un nastro ricadeva come un serpente sul braccio nudo Aratov guardò a lungo quell'immagine la trovò somigliante e chiese se Clara avesse preso parte a letture pubbliche e seppe di no lei aveva bisogno dell'eccitazione del teatro del palcoscenico ma un'altra domanda gli bruciava sulle labbra Anna Semyonovna esclamò finalmente non a voce alta ma con una certa forza mi dica la prego mi dica perché lei perché lei si è decisa a questo atto terribile Anna abbassò gli occhi non lo so disse dopo qualche istante mio Dio non lo so proseguì impetuosamente accorgendosi che Aratov aveva allargato le brazza come se non le credesse fin dal suo arrivo qui sembrava pensierosa e cupa sicuramente le era successo qualcosa a mosca qualcosa che non potevo indovinare e invece quel giorno fatale era quasi più allegra o meglio più tranquilla del solito nemmeno io ho avuto il minimo presentimento aggiunse Anna con un sorriso amaro come se lei se lo fosse rimproverato ecco ricominciò pareva che nel destino di Katia ci fosse scritto che sarebbe stata infelice fin da giovane ne era convinta appoggiava la testa sulla mano e pensierosa diceva non vivrò a lungo aveva dei presentimenti figuratevi che a volte in sogno a volte da sveglia vedeva quello che stava per capitarle se non posso vivere come voglio allora non ho bisogno di vivere anche questa era una sua frase ricorrente la nostra vita non è forse nelle nostre mani e lo ha dimostrato Anna si coprì il volto con le mani ed acque Anna Semionovna cominciò dopo un attimo Aratov le hanno forse raccontato a che cosa i giornali hanno attribuito a un amore infelice lo interruppe Anna togliendosi bruscamente le mani dal viso è una calunnia una calunnia un'invenzione la mia pura e inaccessibile Katia Katia un amore infelice era espinto e io non l'avrei saputo tutti si innamoravano di lei e lei e di chi si sarebbe innamorata qui chi fra tutte queste persone sarebbe stato degno di lei chi poteva raggiungere quell'ideale di onestà di sincerità di purezza sì di purezza che nonostante tutti i suoi difetti si ergeva sempre davanti a lei per spingere lei la voce di Anna si spezzò le dita le tremavano leggermente improvvisamente arrossì arrossì per lo sdegno e in quel momento e solo per un attimo assomigliò alla sorella Aratov si profondeva già in scuse mi ascolti lo interruppe Anna voglio assolutamente che lei non creda a questa calunnia e che la dissipi per quanto sia possibile vuole scrivere un articolo su di lei ed ecco l'occasione per difendere la sua memoria per questo motivo io le parlo con tanta franchezza mi ascolti c'è rimasto un diario di Katia Aratov sussultò un diario mormorò sì un diario insomma qualche paginetta Katia non amava scrivere per mesi interi non scriveva niente e le sue lettere erano sempre così brevi ma lei era sempre sincera non mentiva mai mentire una orgogliosa come lei io io le farò vedere questo diario lei stesso vedrà se c'è anche un solo accenno a un amore infelice Anna frettolosamente tirò fuori dal cassetto del tavolo un sottile quaderno di circa dieci pagine non di più e lo diede ad Aratov e glielo afferrò con avidità riconobbe la larga scrittura irregolare la scrittura di quella lettera anonima lo aprì a caso e subito gli caddero gli occhi sulle seguenti righe Mosca martedì giugno ho cantato e ho letto in una mattinè letteraria oggi per me è un giorno importante devo decidere il mio destino queste parole erano sottolineate due volte ho rivisto qui seguitavano alcune righe accuratamente cancellate poi no 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 bisogna ricominciare come prima se solo Aratov abbassò la mano con la quale teneva il quaderno e chi no la testa sul petto legga esclamò Anna perché non legge legga dall'inizio le ci vorranno cinque minuti in tutto anche se questo diario copre due anni a Kazan non ha scritto più niente Aratov lentamente si alzò dalla sedia e cadde in ginocchio davanti ad Anna questa rimase impietrita per lo stupore e lo spavento mi dia questo diario disse con voce agonizzante e tese le mani verso Anna mi dia anche la fotografia sicuramente ne ha un'altra e il diario glielo restituirò ma ne ho bisogno nella sua supplica nei tratti sconvolti del suo viso c'era qualcosa di così disperato che assomigliava perfino all'odio alla sofferenza ed egli soffriva realmente era come un uomo che non ha potuto prevedere la sventura che sta per abbattersi su di lui e implora disperatamente di essere risparmiato di essere salvato me lo dia ripete ma lei lei era innamorato di mia sorella disse infine Anna Aratov era sempre in ginocchio io l'ho vista soltanto due volte mi creda e se non mi avessero spinto dei motivi che io stesso non posso capire e non so spiegare bene se non ci fosse un potere più forte di me sopra di me non le avrei chiesto non sarei venuto fin qua ho bisogno io devo lei stessa mi ha detto che deve riabilitare la sua immagine e lei non era innamorato di mia sorella chiese per la seconda volta Anna Aratov non rispose subito e si girò leggermente come preso da un dolore ebbene sì lo ero e lo sono anche adesso esclamò con lo stesso tono disperato dalla stanza accanto si sentirono dei passi si alzi si alzi disse in fretta Anna sta venendo la mamma Aratov si alzò e prende il diario e la fotografia ed io sia con lei povera povera Katia ma lei mi restituirà il diario aggiunse con vivacità e se scrive qualcosa me lo mandi assolutamente ha capito l'arrivo della signora Milovidova evitò ad Aratov di dover rispondere ma fece in tempo a sussurrare lei è un angelo grazie le manderò tutto quello che scriverò la signora Milovidova ancora assonnata non si accorse di niente così Aratov partì da Kazan con la fotografia nella tasca interna della giacca rimandò il quaderno ad Anna ma senza che lei se ne accorgesse strappò la pagina sulla quale c'erano le parole sottolineate nel suo viaggio di ritorno a Mosca ricadde di nuovo nel torpore pur essendo interiormente felice di aver raggiunto lo scopo del suo viaggio rimandava tutti i suoi pensieri su Clara al momento in cui sarebbe rientrato in casa pensava molto di più a sua sorella Anna ecco pensava una meravigliosa e simpatica creatura quale finezza d'intuito quale capacità d'amore quale assenza di egoismo e da noi in provincia in ambienti così fioriscono ragazze come lei è malata bruttina e non più giovane ma che ottima amica sarebbe per un uomo onesto e istruito ecco di chi ci si dovrebbe innamorare ecco che cosa pensava Aratov ma al suo arrivo a Mosca le cose prese erano una piega completamente diversa 14 Platoni da Ivanovna provò un'indicibile gioia per il ritorno dell'ipote che cosa non aveva immaginato durante la sua assenza è andato perlomeno in Siberia sussurrava seduta immobile nella sua cameretta per almeno un anno inoltre la cuoca la spaventava dando le notizie sicurissime sulla scomparsa di questo o quest'altro giovane del vicinato l'innocenza e la lealtà assoluta di Yasha non riuscivano a tranquillizzare la vecchietta perché basta poco si occupa di fotografia quanto basta per arrestarlo ed ecco che Yashenka era tornato sano e salvo in verità si accorse che era dimagrito aveva il viso un po' smunto ma questo si poteva capire senza sorveglianza ma non osò chiedergli niente del viaggio durante il pranzo domandò ma è una bella città Kazan bella rispose Aratov ci vivono tutti tartari non solo tartari e non hai portato di là un cafettano no non l'ha portato e con questo si concluse la conversazione ma non appena Aratov si ritrovò solo nel suo studio cominciò a sentire che qualcosa lo avvolgeva e di nuovo si trovava in potere proprio in potere di un'altra vita di un altro essere benché avesse detto ad Anna in un eccesso di frenesia improvvisa che era innamorato di Clara egli era ora il primo a trovare questa parola insensata e assurda no non era innamorato e d'altra parte come avrebbe potuto innamorarsi di una morta che anche in vita non gli era piaciuta e che aveva già quasi dimenticato no egli era sotto il potere sotto il suo potere egli non apparteneva più a se stesso era prigioniero prigioniero tanto da non tentare nemmeno più di liberarsi né burlandosi di questa assoluta assurdità né risvegliando in se stesso se non la certezza almeno la speranza che tutto ciò passerà che si trattava soltanto di nervi né sforzandosi di cercare altre prove né in nessun altro modo se l'incontro lo prenderò gli tornavano in mente queste parole di Clara riferite da Anna ed ecco lui era preso ma non è forse morta sì il suo corpo è morto ma la sua anima non è forse immortale ha forse bisogno di organi terreni per mostrare il suo potere il magnetismo ci ha dimostrato l'influenza dell'anima umana vivente su un'altra anima umana vivente perché dunque questa influenza non potrebbe continuare anche dopo la morte dal momento che l'anima rimane viva ma che scopo cosa può venirne fuori veramente siamo capaci in generale di concepire qual è lo scopo di tutto quello che avviene intorno a noi questi pensieri preoccupavano Aratov al punto che improvvisamente durante il tè chiese a Platoce se credeva nell'immortalità dell'anima all'inizio lei non capì che cosa le stesse chiedendo poi si fece il segno della croce e rispose che non ci sarebbe mancato altro che l'anima non fosse immortale e se è così può agire dopo la morte chiese di nuovo Aratov la vecchia rispose di sì può pregare per noi ma anche questo non prima di essere passata per tutte le prove che precedono il giudizio universale ma i primi 40 giorni segnaleggia soltanto vicino al luogo dove è avvenuta la morte i primi 40 giorni sì e poi vengono le prove Aratov si meravigliò delle nozioni della zia e andò in camera sua continuava a sentire quello stesso potere su di sé questo potere si manifestava nel fatto che egli vedeva continuamente l'immagine di Clara nei più piccoli particolari in quei particolari che egli non aveva notato in lei quando era viva vedeva sì vedeva le sue dita le sue unghie la curva dei capelli sulle sue guance sotto le tempie un piccolo neo sotto l'orecchio sinistro vedeva il movimento delle labbra delle narici delle sopracciglia il suo modo di camminare il suo modo di tenere la testa un po' piegata a destra vedeva tutto non è che si sentisse estasiato da tutto ciò ma non riusciva a non pensarsi a non vederlo la prima notte dopo il suo ritorno lei tuttavia non gli apparve in sogno era molto stanco e dormì come un sasso comunque appena si svegliò lei entrò nella sua stanza e vi rimase come una padrona come se con la sua morte volontaria si fosse conquistata questo diritto senza chiedergli il permesso e senza averne bisogno e gli prese la sua fotografia ne fece delle riproduzioni degli ingrandimenti poi pensò di metterla allo stereoscopio dovette lavorarsi molto ma infine ci riuscì ebbe un sussulto quando vide attraverso la lente la sua figura acquistare corporeità ma era un'immagine grigia come coperta di polvere e poi gli occhi gli occhi quegli occhi guardavano sempre da una parte come se volessero sfuggirgli allora li fissò a lungo a lungo nella vaga speranza che essi si volgessero dalla sua parte socchiuse apposta le palpebre ma gli occhi rimanevano immobili e tutta l'immagine prendeva l'aspetto di una bambola cambiò di posto si mise a sedere su una poltrona prese la paginetta strappata dal diario con le parole sottolineate e pensò dicono che gli innamorati bacino le parole tracciate dalla mano adorata ma io non provo nessun desiderio di farlo e d'altra parte la scrittura mi sembra bruttina ma in questa riga è scritto il mio verdetto a questo punto gli venne in mente la promessa fatta ad Anna a proposito dell'articolo si sedette al tavolo e cominciò a scrivere ma tutto gli riusciva falso e retorico ma soprattutto falso quasi che egli non credesse a ciò che scriveva e neppure ai propri sentimenti e anche Clara gli sembrava sconosciuta enigmatica non riusciva a focalizzarla no pensò gettando via la penna o io non sono affatto uno scrittore oppure questo significa che si deve aspettare ancora cominciò a ricordare la sua visita in casa dei Milovidov e tutto il racconto di Anna di questa buona meravigliosa Anna la parola da lei pronunciata pura improvvisamente lo fulminò lo infiammò e lo illuminò si disse ad alta voce è pura e anch'io sono puro ecco che cosa le ha dato questo potere i pensieri sull'immortalità dell'anima sulla vita dell'oltretomba di nuovo si impossessarono di lui non è forse detto nella Bibbia morte dov'è il tuo aculeo e in Schiller anche i morti vivranno e anche queste parole che mi sembra siano di Michievitz ti amerò fino alla fine dei tempi e oltre ancora e uno scrittore inglese ha scritto l'amore è più forte della morte soprattutto il versetto biblico impressionò Aratov voleva trovare il passo in cui erano scritte quelle parole ma non avendo una Bibbia andò a chiederla a Platoša questa si meravigliò ma prese un libro vecchissimo con la rilegatura in pelle completamente raggrinzita con i fermagli di rame tutta macchiata di cera e lo porse ad Aratov egli se lo portò in camera ma per un po' non riuscì a trovare quel versetto e gli capitò sott'occhio invece quest'altro nessuno ha amore più grande di colui che sacrifica la propria vita per i suoi amici Vangelo secondo Giovanni capitolo 15 versetto 13 egli pensò non è così bisogna dire nessuno ha potere più grande e se essa non avesse sacrificato la sua anima per me se essa si fosse uccisa perché la vita era diventata per lei un peso e se infine fosse venuta all'appuntamento non per dichiarare il proprio amore ma in quel momento gli apparve Clara nel momento della loro separazione sul boulevard ricordò la dolorosa espressione di quel viso e quelle lacrime quelle parole ah lei non ha capito nulla no non poteva più avere dubbi perché cosa e per chi ella avesse sacrificato la sua vita così passò tutto quel giorno fino a notte 15 Aratov si coricò presto non perché avesse particolarmente sonno ma perché sperava di trovare riposo a letto la tensione dei suoi nervi gli procurava un senso di sfinimento molto più penoso della stanchezza fisica del viaggio e del treno tuttavia per quanto fosse molto stanco non riusciva ad addormentarsi provò a leggere ma le righe gli si confondevano davanti agli occhi spense la candela e le tenebre si riversarono nella stanza era sdraiato senza riuscire ad addormentarsi ad occhi chiusi ed ecco che gli sembrò di udire qualcuno che gli sussurrava all'orecchio è il mio cuore che batte è il mio sangue che pulsa pensò ma il sussurro si trasformò in un discorso qualcuno parlava in russo in fretta in modo confuso e lamentoso non si poteva cogliere neppure una parola ma quella era la voce di Clara Aratov aprì gli occhi si sollevò e si appoggiò sul gomito la voce si fece più debole ma continuò con quel tono lamentoso frettoloso e confuso di prima non c'erano dubbi era la voce di Clara delle dita scorrevano su un pianoforte con lievi arpezi poi eccheggiò di nuovo la voce si udivano suoni strascicati come gemiti solo quelli e sempre quelli e allora cominciarono ad intendersi delle parole distinte rose 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 ripete morborando Aratov ma si sono quelle rose che ho visto sulla testa di quella donna nel sogno rose si di di nuovo sai tu domandò morborando Aratov la voce d'acqua all'improvviso Aratov aspettò aspettò e appoggiò la testa sul cuscino allucinazione acustica pensò ma se invece se lei fosse proprio qui vicino se io la vedessi mi spaventerai o ne proverai gioia di che cosa dovrai spaventarmi e di che cosa dovrai essere felice ecco forse il perché questa sarebbe la dimostrazione che esiste un altro mondo e che l'anima è mortale ma anche se io avessi visto qualcosa potrebbe sempre essere un'allucinazione ottica tuttavia accese la candela e percorse con uno sguardo rapido e non senza una certa paura tutta la stanza ma non vide niente di particolare si alzò e si avvicinò allo stereoscopio di nuovo la stessa bambola grisa con quegli occhi che guardavano da una parte il sentimento di paura si trasformò in Aratov in irritazione come se fosse stato ingannato nelle sue aspettative e anche queste sue aspettative gli sembravano ora ridicole in fondo tutto questo è stupido borbottò rimettendosi a letto e spense la candela di nuovo tutto fu volto da una fitta oscurità Aratov decise che questa volta si sarebbe addormentato ma una nuova sensazione si impossessò di lui gli sembrava che ci fosse qualcuno in piedi nel mezzo della stanza non lontano da lui e che respirasse impercettibilmente si voltò subito e aprì gli occhi ma che cosa si poteva vedere in quella oscurità impenetrabile si mise a cercare un fiammifero sul comodino e all'improvviso gli sembrò che un vento leggero e sommesso passasse attraverso la stanza sopra di lui attraverso di lui che le parole sono io risuonarono distintamente alle sue orecchie sono io sono io passarono alcuni secondi prima che gli riuscisse di accendere la candela nella stanza di nuovo non c'era nessuno e lui non sentiva più niente se non il battito del suo cuore beve un bicchiere d'acqua e rimase immobile con la testa appoggiata sulla mano aspettava pensò aspetterò o sono sciocchezze o lei è qui non si metterà a giocare al gatto al topo aspettò aspettò a lungo così a lungo che gli vennero i crampi alla mano su cui appoggiava la testa ma nessuna delle precedenti sensazioni si ripetè una o due volte gli si chiusero gli occhi li riaprì immediatamente o almeno così gli sembrò a poco a poco gli occhi si dilassero verso la porta e si fermarono su questa la candela si era consumata e nella stanza c'era di nuovo il buio ma la porta biancheggiava come una macchia lunga nell'oscurità ed ecco che questa macchia si mosse diventò più piccola e sparì e al suo posto sulla soglia apparve una figura femminile Aratof la fissò Clara e questa volta lo guarda negli occhi e gli va incontro porta sulla testa una coroncina di rose rosse sconvolto fino in fondo all'anima si alzò davanti a lui stava sua zia in cuffietta da notte con un gran nastro rosso e in vestaglia bianca Platoscia esclamò a fatica e lei si sono io rispose Platonia da Ivanovna sono io piccolo Yashenka io perché sei venuta perché tu mi hai svegliato prima con dei gemiti poi hai gridato improvvisamente salvatemi aiuto e io ho gridato si hai gridato con una voce rauca salvatemi e ho pensato signore mio che stia male e sono venuta stai bene sto benissimo vuol dire che stavi facendo un brutto sogno vuoi che bruci un po' di incenso Aratov guardò ancora una volta la zia fissamente e scoppiò in una risata sonora la figura della buona vecchietta in cuffietta e vestaglia con il viso teso e spaventato era in realtà molto divertente tutto quel mistero che lo circondava che lo opprimeva tutte quelle malie si dissolsero di colpo no la toscia mia cara non ho bisogno di niente disse scusa se senza volerlo ti ho allarmata dormi tranquilla ora dormirò anch'io Platone Neva Ivanovna si soffermò ancora un po' e indicando la candela brontolava perché mio caro non la spegni fa presto a succedere una disgrazia e uscendo non poté fare a meno seppur da lontano di fargli il segno della croce Aratov si addormentò subito e dormì fino al mattino si alzò di buon umore malgrado un'impressione di vago limpianto si sentiva libero e leggero che fantasticherie romantiche mio caro si diceva sorridendo non diede uno sguardo né allo stereoscopio né al foglietto strappato del diario però subito dopo colazione si diresse da Kupfer qualcosa lo attirava laggiù lo sentiva confusamente 16 Aratov trovò il suo fucoso amico in casa chiacchierò un po' con lui lo rimproverò di aver completamente dimenticato lui e la zia ascoltò i nuovi elogi della principessa quella donna d'oro dalla quale Kupfer aveva appena ricevuto da Jaroslav una papalina ricamata a scaglia di pesce e improvvisamente sedutosi davanti a Kupfer e guardandolo dritto negli occhi disse di essere stato a Kazan sei andato a Kazan perché volevo raccogliere delle informazioni su quella Clara Militz ah quella che si è avvelenata Kupfer scosse la testa ma che tipo e così alla chitichella te sei fatto circa mille chilometri di andata e ritorno eh se ci fosse stata sotto una storia di donne allora capirai capirai tutto qualsiasi follia Kupfer si arruffò i capelli ma semplicemente per raccogliere materiale come dite voi uomini colti grazie tante per questo esistono gli uffici statistici dunque hai conosciuto la vecchia e la sorella non è vero che è una ragazza meravigliosa meravigliosa confermò Aratov mi ha detto molte cose interessanti ti ha detto come si è veramente avvelenata Clara che cosa vuoi dire sì in che modo no era ancora così addolorata non ha osato chiederle troppo si tratta dunque di qualcosa di particolare naturalmente figurati proprio quel giorno doveva recitare e ha recitato ha portato con sé una fiala di veleno in teatro e l'ha bevuta prima del primo atto e ha recitato l'atto fino alla fine con il veleno in corpo che forza di volontà che carattere e dicono che non abbia mai recitato con tanto sentimento con tanto calore la sua parte il pubblico non sospetta niente applaude e la chiama ma appena il sipario è calato cade lì sulla scena convulsioni convulsioni e dopo un'ora ha reso l'anima ma non te lo avevo raccontato questo ti era scritto anche nei giornali improvviso Aratov sentì le mani gelarsi e un tremito interiore lo scosse no questo non me l'avevi raccontato disse e non sai che pièce era Kupfer rimase un po' pensieroso mi avevano detto il titolo sì mi avevano detto il titolo della pièce si parlava di una fanciulla ingannata senza dubbio un dramma qualunque Clara era fatta per le parti drammatiche anche il suo aspetto ma dove vai si interruppe Kupfer vedendo che Aratov prendeva il cappello non mi sento bene rispose Aratov addio torno un altro giorno Kupfer lo fermò e lo guardò negli occhi che tipo nervoso sei mio caro guardati sei pallido come il gesso non mi sento bene ripete Aratov liberandosi dalla mano di Kupfer e tornò a casa solo in quell'istante capì di essere andato da Kupfer con l'unico scopo di parlare di Clara della folle dell'infelice Clara comunque tornato a casa ben presto ritrovò la calma almeno fino a un certo punto le circostanze che avevano accompagnato la morte di Clara all'inizio avevano suscitato in lui un'impressione sconvolgente ma in seguito a quella recitazione con il veleno in corpo come si era espresso Kupfer gli era sembrata una posa teatrale mostruosa una bravata alla quale cercava di non pensare temendo di risvegliare in sé un sentimento simile al disgusto durante il pranzo seduto davanti a Platoscia improvvisamente si ricordò dell'apparizione nel cuore della notte ricordò quella camicia corta quella cuffia con il nastro alto a che cosa serve un nastro su una cuffia da notte tutta questa buffa figura la cui apparizione aveva ridotto in polvere in un sol colpo tutte le sue visioni come il fisco del macchinista in un battello fantastico costrinse perfino Platoscia a ripetere il racconto di come avesse udito il grido si fosse spaventata e balzata in piedi non fosse riuscita subito a trovare la sua porta e quella di sua nipote eccetera la sera docò a carte con lei poi tornò nella sua stanza un po' triste ma comunque abbastanza tranquillo Aratov non pensava alla notte imminente e non aveva paura era convinto che l'avrebbe trascorsa nel migliore dei modi il pensiero di Clara di tanto in tanto si risvegliava in lui ma subito ricordava in che modo melodrammatico si era data la morte e distoglieva il pensiero da lei quella mostruosità eclissava gli altri ricordi che aveva di lei dettata un'occhiata nello stereoscopio ebbe persino l'impressione che lei guardasse da un lato perché provava vergogna proprio sopra allo stereoscopio sulla parete era appeso il ritratto di sua madre Aratov lo tolse dal chiodo lo guardò a lungo lo baciò e lo ripose accuratamente in un cassetto perché lo aveva fatto forse perché quel ritratto non doveva trovarsi vicino a quella donna o per qualche altro motivo Aratov non riuscì a darsi una risposta ma il ritratto della madre risvegliò in lui il ricordo del padre del padre che egli aveva visto morire proprio in quella camera in quel letto cosa pensi di tutto questo papà si rivolse a lui con la mente tu hai capito tutto questo anche tu credevi nel mondo degli spiriti di cui parla Schiller dammi un consiglio mio padre mi consiglierebbe di lasciar perdere tutte queste sciocchezze desearatov ad alta voce e si mise a leggere un libro ma per un po' non riuscì a leggere e sentendo un peso in tutto il corpo si coricò prima del solito nell'assoluta certezza che si sarebbe addormentato presto e così avvenne ma le sue speranze di passare una notte tranquilla non si avverarono 17 non era ancora suonata la mezzanotte che fece un sogno insolito e minaccioso gli sembrava di trovarsi in una ricca villa di campagna di cui lui era il padrone da poco tempo ha comprato quella casa e tutte le proprietà annesse ed è ossessionato da questa idea ora va bene va bene ma arriverà una disgrazia vicino a lui volteggia un piccolo uomo il suo intendente ride e si inchina in continuazione e vuole far vedere ad Aratov che nella casa e nella proprietà tutto è perfettamente organizzato la prego la prego non smette di ripetere ridacchiando ad ogni parola guardi come tutto qui è prospero ecco i cavalli che cavalli meravigliosi e Aratov vede una fila di cavalli enormi dritti alle loro poste con il dorso girato e le loro criniere e le loro code sono stupende ma non appena Aratov si avvicina i cavalli girano la testa verso di lui e mostrano i denti con aria cattiva ora va bene pensa Aratov ma arriverà una disgrazia la prego la prego ripete l'intendente favorisca il giardino guardi che meravigliose mele le mele sono meravigliose rosse e tonde ma non appena Aratov le guarda si raggrinziscono e cadono arriverà una disgrazia pensa ecco il lago balbetta l'intendente come azzurro e liscio vede quella barchetta d'oro non vuole fare un giro naviga da sola non ci salirò pensa Aratov arriverà una disgrazia ma comunque sale sulla barchetta sul fondo già si era trappito un piccolo essere simile a una scimmia tiene in mano una fiala con un liquido scuro non si preoccupi grida l'intendente dalla riva non è niente è la morte buon viaggio la barca naviga veloce e improvvisamente si alza un vento non come quello del giorno prima leggero e sommesso ah no un turbine oscuro terrificante ululante tutto si confonde intorno a lui e in mezzo a questo turbinio tenebroso Aratov vede Clara in costume di scena che porta la fiala alle labbra mentre risuonano lontano le voci brava brava e una voce rosa grida ad Aratov nell'orecchio ah tu credevi che tutto finisse in commedia no questa è una tragedia una tragedia Aratov si sveglia tutto tremante nella stanza non è buio da qualche parte si diffonde una debole luce che fiocca immobile illumina tutti gli oggetti Aratov non si chiede da dove viene questa luce non sente che una cosa Clara è qui in questa stanza percepisce la sua presenza ancora e per sempre è in suo potere dalle sue labbra esce un grido Clara sei qui sì risuona chiaramente nella stanza immersa nella luce fissa Aratov ripete dentro di sé la sua domanda sì si sente di nuovo allora voglio vederti grida e valza su dal letto per alcuni minuti rimane nello stesso punto battendo i piedi nudi sul pavimento freddo i suoi occhi vagano dov'è lei dov'è lei mormorano le sue labbra non si vede niente non si sente niente guardò attentamente e si accorse che la debole luce che riempiva la stanza veniva da un lumino da notte riparato da un foglio di carta messo nell'angolo probabilmente da platoscia mentre lui dormiva sentiva perfino l'odore dell'incenso bruciato senza dubbio da lei si vestì di corsa rimanere a letto a dormire era impossibile poi si fermò in mezzo alla stanza e incrociò le braccia la sensazione della presenza di Clara era in lui più forte che mai ed ecco che cominciò a parlare non a voce alta ma con solenne lentezza come se preferisse uno scongiuro Clara cominciò se sei proprio qui se mi vedi se mi senti mostrati se questo potere che io sento su di me è proprio il tuo potere mostrati se hai capito come io mi penta amaramente di non aver compreso di averti respinta mostrati se quella che ho sentito è veramente la tua voce se il sentimento che sei impadronito di me è amore se tu ora sei certa che io ti ami io che fino ad ora non ho amato e non ho conosciuto alcuna donna se tu sai che dopo la tua morte io ti ho amata appassionatamente irresistibilmente se tu non vuoi che io diventi pazzo mostrati Clara Aratov non fece in tempo a pronunciare quest'ultima parola che improvvisamente sentì qualcuno avvicinarsi da dietro con un passo rapido come quella volta sul boulevard e posargli la mano sulla spalla si voltò e non vide nessuno ma questa sensazione della sua presenza era divenuta così evidente così certa che egli di nuovo si guardò intorno che cosa vede sulla poltrona a due passi da lui sedeva una donna tutta vestita di nero la testa girata da una parte come nello stereoscopio era lei era Clara ma che volto severo che volto malinconico Aratov cadde lentamente in ginocchio sì aveva avuto ragione allora non provava né paura né gioia e neanche meraviglia persino al suo cuore batteva più lentamente in lui c'era un'unica certezza un unico sentimento ah finalmente finalmente Clara disse con voce debole ma regolare perché non mi guardi so che sei tu ma io potrei pensare che la mia immaginazione abbia creato un'immagine simile a quella indicò con la mano lo stereoscopio provami che sei tu girati verso di me guardami Clara la mano di Clara si sollevò lentamente ma subito ricadde Clara Clara girati verso di me e la testa di Clara si girò lentamente le palpebre abbassate si alzarono e le sue spure pupille fissarono Aratov egli indietreggiò un po' ed emise un suono lungo e fremente ah Clara lo guardava fissamente ma i suoi occhi i suoi lineamenti conservarono quell'espressione severa e pensosa quasi scontenta che avevano avuto prima era esattamente quella espressione che aveva quando era apparsa sul palco cenico il giorno della mattinè letteraria prima di aver visto Aratov e così come allora all'improvviso al viso arrossì si rianimò e lo sguardo si illuminò un gioioso sorriso trionfante apparve sulle sue labbra sono perdonato esclamò Aratov hai vinto prendimi ecco io sono tuo e tu sei mia si lanciò si lanciò verso di lei voleva baciare quelle labbra sorridenti e trionfanti e le baciò sentì il loro contatto ardente sentì la freschezza umida dei suoi denti e un grido di trionfo eccheggiò nella penombra della stanza Platonida Ivanovna a corsa lo trovò privo di sensi era in ginocchio con la testa appoggiata sulla poltrona le braccia tese in avanti ciondolavano inerti il viso pallido era come inebriato da una felicità infinita Platonida Ivanovna cadde accanto a lui e lo abbracciò attorno alla vita sussurrando Yasha Yashenka piccolo Yashenka tentando di rialzarlo con le sue braccia ossute ma egli era immobile allora Platonida Ivanovna cominciò a gridare con una voce irriconoscibile accorse la domestica in due lo sollevarono lo misero a sedere e cominciarono a spruzzargli acqua acqua benedetta presa dall'icona tornò in sé ma alle domande pressanti della zia rispose soltanto con un sorriso e con un'espressione così beata che questa si allarmò ancora di più e ora faceva il segno della croce su di lui ora su di sé Aratov finalmente scostò le mani di lei e sempre con quell'espressione beata sul viso disse ma Platoscia che ha? che cosa hai tu Yashenka? io io sono felice felice Platoscia ecco cos'ho ora ho voglia di sdraiarmi e di dormire avrebbe voluto alzarsi ma sentiva nelle gambe e in tutto il corpo una tale una tale stanchezza che senza l'aiuto della zia e della domestica non sarebbe stato in grado di svestirsi e coricarsi ma si addormentò molto presto conservando sempre in volto quell'espressione di beatitudine il suo viso però era pallidissimo 18 quando il mattino dopo Platoni da Ivanovna entrò in camera lo trovò nello stesso stato ma la debolezza continuava e lui preferì rimanere a letto il pallore del suo viso non piaceva particolarmente a Platoni da Ivanovna che cosa avrà mio dio pensava è pallido come un morto rifiuta il brodo sta a letto sorride e assicura di star bene e gli rifiutò anche la colazione ma che cos'hai Asha domandò la zia vuoi restare a letto tutto il giorno e se così fosse rispose affettuosamente Aratov neanche questo tono affettuoso piacque a Platoni da Ivanovna Aratov aveva l'aria di un uomo che avesse appena conosciuto un grande segreto per lui molto piacevole e lo custodisse gelosamente per sé aspettava la notte non con impazienza con curiosità che cosa verrà dopo si domandava cosa succederà aveva smesso di stupirsi di dibattersi nell'incertezza non dubitava più di essere entrato in comunicazione con Clara di amarla di un amore ricambiato di questo non dubitava più soltanto che cosa poteva venire fuori da un simile amore si ricordava quel bacio e un brivido meraviglioso gli percorse dolcemente e rapidamente le membra un bacio simile pensava non se lo sono scambiati neanche Romeo e Giulietta ma la prossima volta resisterò meglio la possiederò arriverà con la coroncina di piccole rose sui rizzoli neri ma come sarà in seguito perché infine non possiamo vivere insieme forse dovrò morire per stare insieme a lei e se fosse per questo che è venuta ogni volta e se fosse così che lei voleva prendermi e allora se si deve morire che si muoia la morte ora non mi spaventa più non potrà distruggermi vero? al contrario soltanto così e soltanto laggiù io sarò felice come non sono stato felice in vita e come non lo è stata lei siamo puri ambe due ah quel bacio Platone da Ivanovna entrava di continuo nella camera di Aratov non lo importunava con domande ma si limitava a guardarlo a mormorare a sospirare e poi usciva di nuovo ma ecco che egli cominciò a rifutare il pranzo la situazione peggiorava la vecchia si rivolse a un medico del quartiere suo conoscente nel quale aveva fiducia solo perché era un uomo che non beveva e aveva sposato una tedesca Aratov si meravigliò quando lei lo accompagnò ma Platone da Ivanovna così insistentemente pregò il suo Yashenka di permettere a Paramon Paramonich così si chiamava il dottore di visitarlo che lo facesse almeno per lei che Aratov acconsentì Paramon Paramonich gli tastò il polso gli guardò la lingua gli fece qualche domanda e infine dichiarò che era assolutamente necessario auscultarlo Aratov era così spossato che acconsentì anche a questo il medico delicatamente gli denudò il petto delicatamente lo picchiettò lo auscultò tossicchiò e prescrisse delle gocce e una pozione ma lo consigliò in particolar modo di star tranquillo e di evitare emozioni forti ecco pensò Aratov arrivi un po' tardi mio caro cosa ha Yasha domandò Platoni da Ivanovna consegnando sulla porta a Paramon Paramonich una banconota da tre rubli il medico del quartiere che come tutti i suoi colleghi dei giorni nostri e specialmente quelli che portano l'uniforme amava far mostra di usare termini dotti e spiegò che suo nipote aveva tutti i sintomi di ottrici di una cardiologia nervosa con un'aggiunta di febris tu però caro mio parla un po' più semplicemente lo interruppe Platoni da Ivanovna non spaventarmi con il latino non sei in farmacia il cuore è in disordine spiegò il medico e ha una febbriciattola e raccomandò di nuovo di stare calmo e di evitare le emozioni ma non c'è pericolo chiese Platoni da Ivanovna con un tono severo destinato a prevenire ogni nuova incursione nella lingua latina per ora non si prevede il medico uscì e Platoni da Ivanovna ebbe un momento di scoraggiamento comunque mandò in farmacia a comprare la medicina che Aratov non prese nonostante le sue preghiere rifiutò anche la tisana e di che cosa si preoccupa così mia cara le diceva le assicuro che io ora sono l'uomo più sano e più felice di tutto il mondo Platoni da Ivanovna si limitò a scuotere la testa verso sera ad Aratov venne un po' di febbre ma insistette perché lei non restasse nella stanza e andasse a dormire della sua Platoni da Ivanovna obbedì ma non si spogliò e non andò a letto si sedette in poltrona e con l'orecchio teso mormorava la sua preghiera stava per assopirsi quando all'improvviso un grido spaventoso lacerante la svegliò balzò in piedi si precipitò verso lo studio di Aratov e come la sera precedente lo trovò sdraiato sul pavimento ma non riprese i sensi come la sera prima nonostante tutti gli sforzi per rianimarlo quella notte si manifestò una forte febbre complicata da un'infiammazione al cuore qualche giorno dopo morì una strana circostanza aveva accompagnato il suo secondo svenimento quando lo avevano alzato e messo a letto dalla sua mano destra chiusa era apparsa una piccola ciocca di capelli neri femminili da dove venivano questi capelli Anna Semionovna aveva una ciocca lasciatale da Clara ma per quale ragione avrebbe regalato ad Aratov una cosa per lei così preziosa forse l'aveva lasciata nel diario e non se ne era accorta quando glielo aveva prestato nel delirio prima della morte Aratov si era definito Romeo dopo aver preso il veleno parlava di un matrimonio stipulato e consumato e diceva di sapere finalmente che cosa fosse il piacere particolarmente terribile fu per Platoscia il momento in cui Aratov tornato per un momento in sé vedendola accanto al capezzale le aveva detto zia perché piangi perché io devo morire forse non sai che l'amore è più forte della morte 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 dov'è il tuo aculeo non deve piangere ma deve rallegrarsi come io mi rallegro e di nuovo il viso del morente si era illuminato di quel sorriso di beatitudine che era sembrato così terribile alla povera vecchia grazie a tutti